Cosa succede? Anfame! Perché succede un cazzo? E mi faccio vedere di qua Vanno di quel conflitto Buonasera popolo! Eccoci qui Si è spaccato tutto Tutto si è spaccato E' successo l'insuccedibile Allora ragazzi Vi dico subito una cosa Benvenuti in questa live dove si parla di arrivare in FantasticSbrits Ora o mai più Si sente doppio lo so Ok Io volevo usare StreamYard Però mi sembrava troppo sus Quindi sono andato sul buon vecchio Whereby Però mi sa che c'è un No non è la grafica nuova E' teschietti che ho messo per coprire il fatto che ci stanno buchi ovunque Grandissima Grafica nuova Ci sono tantissimi ospiti Il punto è che forse pure troppi Perché non so se Whereby riesce ad entrare Vediamo subito il primo ospite Carrellata incredibile Chi sarà signori Un uomo che è più di un uomo E almeno due tre mesi insieme Meliador Buonasera Per chi non lo conoscesse lui è l'uomo più sexy Nominato giocatore più sexy del 2006 No a parte di cazzate Meliador presentati Pensaci tu Noi si conosciamo da anni ormai però non si è mai venuto qui E' vero è vero la prima volta Posso entrare mi levo le scarpe Ma figurati ma anzi Io te ne devo più di una Quest'uomo mi ha salvato la vita in più di un'occasione Ma in privato Lasciamo perdere Prego prego scusate Esagerato Esagerato Vabbè ma poi in realtà il trucco per sembrare sexy è mettersi vicino a Livia Sì e ora arriverà anche lui penso Sì penso che sì Stando seri lui è un giocatore Tu sei il campione del mondo di Runterra mi sape Allora sono campione del mondo di Warhammer e Confrontazione Sono due giochi di strategia A Warhammer a voglia Eh ok E poi no di Runterra adesso ho iniziato a giocare a Runterra Diciamo che sono tra i primi tre in Europa Però non ho vinto nessun mondiale Capito ma questo fa anche intendere che c'è la mentalità da vincente Nel senso se uno è campione mondiale in qualcosa Poi si chiude in un altro gioco e capisce come diventa tra i migliori Presumo Ma questo ne parleremo nella tua intervista Esatto Attenzione tra l'altra gente non so chi è Oddio Incredibile Laura ciao Laura come stai Ciao Piacere ma c'è un'altra persona lì insieme a te E' entrata un'altra persona Che ha il nome che ricorda le monete di Harry Potter In effetti c'è tutti che avevi Giorgia Falci Tu cucino i zellini andai lasciati Basta subito il bullismo Giorgia ci sei? Sì ci sono ma spero che non mi fa mettere la cam Finchè c'ho la cam su BS logicamente Ah ecco perché Perché andava in conflitto Ma perché vanno in conflitto sti cosi? Infatti ho sentito un'altra voce e dicevo Aspetta cosa è successo Aiuto Ciao Giorgia Ciao Giorgia Aspetta uno per volta Meliador Laura vabbè Laura la conoscete in chat Non ha bisogno di presentazione Ciao Ok Un salutino E Giorgia invece Guarda il 50% del merito di questa live è anche grazie a Giorgia che voleva parlare di mali fantastici Io ho fatto a sto punto famola Famola insieme a live Certo A sto punto invitiamo gente Guarda il casino Compreso Lui il Dobby Il Dobby Il Dobby Mi piace la maglietta lì In tinta sia con il wear bike che con i capelli Se vuoi mettere il green screen faccio la testa volante se vuoi Io il ragazzo sto cercando di mettere invece il full screen Ma come si fa a dust up? Ma vuoi che sito è? Tutte queste cose strane Non ho idea guarda Ma va bene così guarda Cioè secondo me è anche troppo Per i miei mezzi professionali Sta andrà pure troppo bene Mi sto preoccupando Aspetta aspetta che Scusate Ciao Ciao Livio come va? A tutti Livio anche una persona Bene bene Tutto a posto L'avete visto Si poteva stare meglio senza Meliador Però ce l'abbiamo Stava meglio L'avete visto tante volte Ma Maggi? E ora arriva pure Maggi Maggiolone matto nostro Il Maggiolone tutto matto Comunque dicevo Livio l'avete visto Un sacco di orti In Harry Potter 2 Quindi lo conoscete Voglio salutare Voglio salutare un attimo Chi sta sabato Grazie a Fran 877 Andy 98 A rally Al pesce provinciale Io oggi giornata sclero Appresso a Vinted Che è l'app quella dove Quella dove Poi vendere e comprare Ma non solo vestiti La concorrenza ebay E' tutto Sono libero E' libero Io Ma tu non eri un goblin Scusa Ma sei diventato un elfo Eh ma ha detto Mi ha presentato così Vabbè ma infatti Guarda che non si capisce Perché alla fine Dolby Dolby è un elfo domestico Però è anche diciamo Vabbè è vero I goblin sono altri Unci 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 In mezzo a noi Il trono sembra Metal Carter Grazie Si si Metal Carter Pito Soldato d'inverno Cioè Quanti te ne parli Virus Volevo dire una cosa Rally Il pesce provinciale Vinted che ne pensi La sigla Death Note Fatta da Giorgio Vanni La vedremo insieme E rideremo Ne gioiremo E rideremo A me non ha fatto impazzire A me ha fatto impazzire Per motivi diversi Dai tuoi Grazie a Shadow Walker Ciao Magi stanzando grattacieli a mani nude Si 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 Merita il polibolo lo fa ogni tanto Daphne la tocca pianissimo Daphne Daphne Allora signori Io ho preparato Questa live Ci ho messo Ben 15 minuti Attenzione A sedità E ho messo Mi sono Diciamo Ritagliato Dei Delle immagini Del film Quindi io Vorrei proprio Ripercorrere La cronostoria Parlando Dall'inizio Alla fine Ok Innanzitutto Non bastava Vederlo una volta Lo dobbiamo vedere Pure No Solo delle immagini Dobbiamo sovrappare Insieme Dobbiamo ripercorrere Di nuovo Sì Tutto il delirio Ma allora Innanzitutto Voglio dire Voglio farvi una domanda A chi è piaciuto il film? A me è piaciuto Grazie Spacca 10 euro Sei pazzo Allora Spicci Spicci Insomma Comunque Siete in due? A me Più sì che no Diciamo Non proprio sì Stessa cosa Più sì che no Ma questo è bellissimo C'ho due A prima facciamo un versus Rispetto agli altri Facciamo io e la madre Contro Meliador e Falci Va benissimo Perfetto Quindi probabilmente ho sempre un taglio più possibilista quando vado a vederli Ok E probabilmente mi immergo nel mondo molto facilmente e quindi presto meno attenzione alla logicità Delle cose Ad andare a vedere proprio la precisione su una cosa rispetto ad un'altra E quindi nonostante mi renda conto poi a mente fredda che ci sono soprattutto due o tre cose che non mi sono piaciute Alla fine tante scene secondo me avevano il loro senso e poi a me piace la fantapolitica Ok A me piace la fantapolitica e quindi in realtà ma anche quello prima con tutti i difetti che aveva il taglio a me interessava Ok Domandina che non deve scaturire nel razzismo in chat per favore Hai letto i libri? Sì 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 Perfetto Prego Giorgia a te perché Allora in realtà io la penso un po' diversamente da Mediador A me è piaciuto perché mi è piaciuto il fatto che hanno voluto dare importanza effettivamente ai segreti di Silente Che Dei De un po' tutti Eh sì eh Vabbè vabbè giusto 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 Scusa scusa prego continuo Hai ragione no non avevo capito dei E io dico te che te che Eh però Cioè io invece ho fatto caso al contrario appunto di Francesco A dei Delle cose che non c'erano senso ok Cioè dei Bucchetti di trama che Che non tornavano a livello logico Però vabbè Diciamo che rispetto agli altri animali fantastici ho apprezzato di più questo film Anche se pure qui la trama era un po' Non lo so mi sono sentita più felice del fatto che Poi non voglio spoilerare troppe cose di quello che magari diremo più tardi Però avevo finito il secondo film con una rabbia Cioè che dicevo o giustificano bene questa cosa o messano sul cazzo non mi vedrò mai più un film Effettivamente avevo paura ma invece poi E dai voi ne parleremo scusate entrato Alessio e Maggi Sì sennò sto per far entrare un canale Sì sì Brumotti Attenzione è proprio lui Il maggiolone Il turbodiesel Male no per niente Guarda ti faccio parlare Ti faccio parlare subito Devo parlare un attimo Devo parlare un attimo con Filippo De Cotte Trono Con cose importanti Trono Che cosa ne pensi tu Della differenza Che c'è della forza contundente Classe XGJ Rispetto alla classe XTJ Perché queste sono cose fondamentali nella vita Secondo me Secondo me non cambia niente Secondo me Secondo me Fanno come C'è tra i reti E' come quando Compri l'iPhone G Secondo me è uguale Non ti hanno messo niente dentro Detto questo Vorrei dire Ti faccio parlare subito Maggi Maggiolino Madre Madre di tutti Gli esseri con le squame Prego Tutti Tutti Ma allora A te non è piaciuto poco No infatti Più che altro perché Come diceva appunto Falci Non Cioè sono rimasta male Dopo il secondo film Mi è rimasta quel nervoso Di dire ma Volevano fare una cosa su Animali Fantastici Ed è diventato uno spin off Invece per Gli adulti Per coloro che adesso sono adulti Che una volta erano piccoli Quando si sono visti i primi Harry Potter E per cercare di riportare in vita Un franchise Che la Roving ha affossato Con le proprie parole Con i propri tweet Quindi mi è sembrata più Un'operazione di marketing Che tutto il resto Basta guardare anche Soprattutto come hanno trattato Johnny Depp Che voglio dire Adesso sta tenendo banco Con il suo processo Onestamente Io non l'avrei Tirato via Questo franchise Ma la Warner Bros Ne parleremo anche Magari un po' Dopo De Johnny Depp Sì Sì Però Non mi ha convinto Non mi ha convinto Mi è sembrato tutto molto Incastrato un po' a caso Prego Livio Sì 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 Quello sono d'accordo Però poi appunto Magari approfondiamo Dopo meglio Sì Adesso voglio fare una carrellata Velocissima Vai un minuto Un minuto e mezzo per uno Vada Livio Vada Allora In realtà il film Vada fuori dalla stanza Via Io voglio dire una cosa Livio qui solo amore Solo amore Davvero Non manco per scherzo Qui non verrà mai bullizzato Sei tra amici Ti voglio bene Prego Grazie No allora Come gli zoomer Non si fa così adesso Si fa così Lo sapevate regà Ah ok Pussate via tutti Ti odio tutti Solo per avermelo detto Prego Livio Comunque Allora Questo film in realtà Alla fine Se non ci fai caso Può pure scorrere Eccetera Il problema è che È una presa per il culo Questo film è inutile È un filler del cazzo Non serve a niente Zero Gli ultimi I primi minuti E gli ultimi Poi il resto Tutta merda È una presa per il culo Ci stanno un sacco di plot twist Che non sono plot twist Inutili Ti odio un tizio E va da una parte Non si sa perché va lì Si fa il lavaggio del cervello Poi torna A caso Mo ne parliamo bene Ho una foto per tutto Non si preoccupa Senza alcun senso Che grande capretto Che si inchina E ci arriviamo Magno Non devi spoilerare Tu dici tutto il film No vabbè E' lì E' senza senso Tutte cose che sono lì Uno che va da una parte Uno che va dall'altro Poi alla fine Le cose si rompono a caso Non si capisce un cazzo Dai No c'è un motivo C'è un motivo che poi diremo Poi ci arriviamo nel dettaglio È da bellissimo Però Prego Maggi Voglio far notare Scusami Prego 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 Voglio far notare come Livio Non solo Ha la maglietta abbinata ai capelli Ma anche allo sfondo Di questo bellissimo cito Eh si si Cioè lì Sta proprio sul pezzo Stasera È proprio il Green Goblin Oggi Prego Maggi Mi saluti Tobey Maguire Prego Spider-Man Si Spider Prego Spider-Man Mi spai Mi sta anche un pochino sul cazzo A te La tutta del Spider-Man E' stato il braccio Hai capito C'è un po' secco per me No ma che ti devo dire C'è Grandi flussi Che si incrociano E rompono Grandi magie strane Quello è il film Poi a un certo punto Succedono cose strane Ci sanno personaggi Che come se non ci fossero Succedono cose senza senso È un film che piace A chi è un po' Diciamo schierato Di parte Chi è amante della saga Perché chi non è amante della saga Ci ha provato a giustificarmi Delle cose Riguardo Grande Capretto Che si inchina Ma il mio problema Non è tanto Grande Capretto Che si inchina È Mamma Sparauvetti Mamma Sparauvetti È molto più problemata Mamma Sparauvetti Mamma Sparauvetti Non mi ricordo Va bene Io pure Ok Vorrei chiudere io Dicendo che A me non è piaciuto A me è piaciuto Molto più il primo tempo Che il secondo tempo E vi dirò perché Quando la stragrande maggioranza De quelli che sento Anche Critici Dicono che il secondo tempo Invece Gli è piaciuto molto più Del primo Io non capisco il motivo Perché nel primo senso Nel primo tempo ci sono Spiegano cose Che ok Non dobbiamo essere Troppo bacchettoni Ma hanno senso Compresa questa Iniziamo con la prima immagine Perché qua È come Il senso della vita Dovrò coprire qualcuno Purtroppo Livio No Mi sei coperto Mi copro C'è un problema Non so dove mettere Gino Lo metto qua Dai Silente Parla con Green Death Brits Io non vedo niente Ah va nella tua live Scusate Solo nella live Ok mi sa che su Whereby puoi condividere Le immagini Forse Però puoi toccare le cose Per far esplodere tutto Perdonatemi Puoi fare Share C'è Silente Ve la descrivo C'è Silente È la scena All'inizio Dove Silente Parla con Grindelwald E gli dice Che lo ama Io lì Ho fatto Bravo Bello Sì Bellissimo Questo è un Vi dico la mia cosa Poi uno per uno È un retcon Perché nessuno Te l'ha mai detto Ma come dico sempre I retcon Anche con l'obscurus Ci possono stare Se hanno senso Spiega il perché Silente Ha aspettato così tanto Per attaccarlo Spiega perché Sia singolo Non è quello di Anna sbatte Gama e Granite Per forza Come cercano De fanno i film Cringe Quando in realtà Pure al ballo del ceppo Non balla Gama e Granite Balla con Madame Maxime E faceva ride Perché uno basso Un'arta Lui sta bene Per i cazzi Sua perché Perché stava Con Grindelwald O gli piaceva Quello che è Anche nel settimo libro Si vede che c'è Una relazione Più che fratelli Nel secondo Mi piaceva Che se vedeva Allo specchio L'avevo predetto Vabbè Cringe E poi nel terzo Te lo dicono proprio Io ho fatto bravi Sono contento Quindi sta scena Mi è piaciuta E per questo Che ero in presa bene Vai Chiunque vuole iniziare Si è la parte Più bella del film Andiamo avanti I primi 5 minuti Esatto Non è la parte Non è la parte Dimmi di Giorgia Sicuramente Inizi il film Con una speranza Dire cazzo Finalmente In questo film Verranno fuori Tutte le cose Che noi sapevamo Dai libri Che non sono mai state dette Non sono mai state Adesso verrà tutto fuori E c'è Si dà fiducia Capito Sembrava Eh sì Poi ve lo risponde Allaura Che diceva Che sta diventando Una cosa Io so contento Onestamente Perché a me Di Newt Non me ne frega Proprio niente Cioè nel senso Se c'è Alla fine Ogni animale Nel film È un Deus ex machina Oppure Un MacGuffing Clamoroso Oppure tutte e due le cose Per mannare avanti La trama Ma poi nessuno Gli ne frega niente Lo dico Senza usare Sti termini Che manca E ci sta No certo Però all'inizio All'inizio di tutto Animali fantastici La nuova saga E uno si pensa Che ok Newt Scamander Super Animali fantastici Ovunque Ma in realtà Poi Se il sottotitolo È I segreti di Silente Quell'altra cosa Esatto Capisci che Allora Però io ho capito Quando al primo film Io facevo I segreti animali E sti cazzi Però E invece se me mettevano Io volevo Che ne so Un film sul passato Esilente Però Capisco anche Come te Dicevamo Dove stanno gli animali Almeno li spiegassero No semplicemente E ci stanno proprio un po' di più Semplicemente Semplicemente All'inizio Te l'avevano venduta O almeno Ce l'avevano venduta Come appunto Una saga Dedicata agli animali Fantastici Avrei preferito Che avessero detto Una roba del tipo Il primo sarà Animali fantastici Il secondo sarà Un altro nome Il terzo sarà I segreti di Silente E basta Cioè togliere Quella Quell'ombrello Di animali fantastici Per tutti Sono d'accordo Sul fatto che Non sia il protagonista Newt Prego scusami Però in realtà In realtà L'anno si è fatto Nel senso che Noi lo chiamiamo Animali fantastici 3 Però se vai a vedere Alla fine Il film è pubblicizzato Come I segreti di Silente E sotto piccolino Animali fantastici Eh l'avrei tolto È diventato il contrario Piccolo Cioè No sì Nel senso che Anche loro l'hanno capito E quindi stanno un po' Trasformando questa cosa Pure al secondo film Era un po' più Importante come titolo I crimini di Grindelwald Più che Animali fantastici Ma perché pure a loro Gli conviene Perché come dicevano Pure nella mia chat È una cosa che È un'operazione Commerciale Cioè Lo fanno Come diceva prima Anche Trono Per Per attirare i vecchi fan Per riportarli un po' Sul pezzo Ma così come la Marvel E tutti gli altri Meliador Assolutamente Prego Meliador Hanno cominciato Da passare il conto Di animali fantastici Sempre di più Che non scomparirà Fate parlare Meliador Un attimo Sì Vabbè Allora su questa cosa Io ho Cioè secondo me Anche Animali fantastici All'inizio Era sempre Cioè Vabbè Ma è sempre Un'idea commerciale Cioè allora Alla fine Devono vendere Con i film E secondo me Sanno che La saga di Harry Potter Ha un'utenza Molto forte Soprattutto Nella fanbase Rocciosa Di pubblico femminile Sì E secondo me Volevano dargli Un taglio Che piacesse Soprattutto A quel pubblico Però vorrei fare Scusa Ti interrompo Solo un secondo Le donne Non sono rincoglionite Ripeto Le donne Non sono rincoglionite Prego Continua No 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 però Però nel senso Cioè ad esempio Non vuol dire Che vuol dire Che vuol dire Spiega bene Questo concetto No 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 Io riguardo Riguardo Cioè il toccare Il punto dell'empatia Con l'animale Cioè animali fantastici Tutte queste Queste creature Meravigliose Interessante Stacola Io Io sono andato al cinema A vedere il primo C'era Elena La mia ragazza Che era Estasiata Cioè nel senso Voleva entrare dentro Stai dicendo che Hagrid è più amato Dalle donne Per esempio Boh no Non lo so Potrebbe essere No no Sono serio Perché a me A me pure Piacciono le bestie Quindi a me piaceva Hagrid Però non ho mai pensato Al fatto degli animali Target più femminile Diciamo Non ci avevo mai pensato Lo sai Si parla sui grandi numeri Ovviamente Sì 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 Ma certamente Ma c'è ragione Mentre invece Gli ultimi film Vanno più sul fantapolitico Che secondo me Va un po' in contrasto Con quest'idea Ora ti dirò Invece io preferito Da me la ti dico Ho preferito No no Certo Un altro aspetto Ci sta Ci sta che poi Ognuno Cioè Il particolare Ma anche per Per un bambino Cioè Animali fantastici Per un bambino Secondo me È più attraente Della fantapolitica Di questo terzo film Cioè A me piace di più La fantapolitica No no Anche a me Anche a me Eppure a Maggi Vero Maggi Però magari Magari Il ragazzino Il ragazzino di otto anni Mi piace di vedere La tigre del primo Che fa tutte le cose speciali Rispetto a Vogel Che parla di come Complottiamo Secondo me Piaccio anche agli adulti Vede la tigre pazza Perché guarda i film Marvel Eccetera Dove è tutta azione No Perché lo mettono anche Per gli adulti Che vogliono vedere E fa Prego Maggi e Livio Scusa Finisci Poi Maggi Sulla cosa Sulla scena invece L'unica cosa Che vorrei capire Anche da voi Cioè Io L'ho interpretata Come Quello in realtà Non è una cosa Che succede realmente Cioè È una specie Di momento Di momento Onirico In cui loro C'è Come se Le loro menti Si incontrassero Però si incontrano A fine Non cambia Però Non cambia Il fatto Che si sono incontrati Non fisicamente Ma ne parleremo Ne parleremo Ne parleremo Dalla dimensione Specchio Prego Livio Eh che devo dire Stasera Tanto Livio Non penso Non c'è niente Partiamo dalle basi Ma che cazzo vuoi Ma ho parlo Posso mezz'ora Fare un'analisi Specifica Prego per romperti I coglioni Vai 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 No se prego Mezz'ora No Tempi televisivi Voglio farlo Un po' Vai 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 Fai parlare Tempi Nessuno si senta Allora io non Spoilero Io non spoiler Le frasi Che si dicono Questa scena è una merda È una merda Per quello che si dicono È una merda Per quello che si dicono No dillo Spoilera Spoilera No no Quello si dicono Eh io ero un giovane Innamorato di te Quindi tutti gli errori Che ho fatto Li ho fatti per amore E di conseguenza Adesso cerco di redimermi Se io mi sono In qualche modo Legato a te Con un patto di sangue È perché Credevo In quello che era Il tuo odiale Di ammazzare tutti Quindi No si Lei non mi ha letto i libri Io ho il film No Che libri Il film Il film Va bene Però Ok Sì Allora No Il punto Non voleva ammazzare i babbani Li voleva controllare i babbani Quando erano giovani Vabbè Seguiva Allora Diciamo che a lui piace Piaceva l'ideale di Grindelwald Sì Perché era innamorato di Grindelwald Erano adolescenti Devi capire E se hai reso conto Dei suoi errori Va benissimo Però occhio Che io adesso ti dico Tre parole Uno di cuore E infatti lo so No 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 C'ho le cuore Quella è una cagata Amicidia Ma io ho risposto a tutto Io ho risposto a tutto La risposta che tu sentirai Da quel tizio Che è alla mia destra È una cagata Che si è inventata Lui Per giustificare la cosa Ok Però se volete Ti tirate Ti tira una cazzata Che non è vera È solo nella sua mente Carina Però è solo nella sua mente Dì la dica La dica Perché arriva Cioè veramente Stiamo spoilerando il finale Allora no Allora no Allora rimaniamo sul pezzo Ok Poi Però vabbè Dì l'alvoro Dì l'alvoro E poi andiamo avanti Allora Secondo me C'è proprio stato Un errore Di scrittura Rispetto a quello Che è stato messo a schermo Cioè Secondo me La frase Che Orrere di scrittura Oppure volontariamente È stato fatto dire Una menzogna Al personaggio Ok Perché secondo me Non è vero Che i Cilin Si inchinano I puri di cuore Perché ad esempio Non si inchina davanti A Jacob Non si inchina davanti A Newt Si inchina davanti A chi reputa Degno Di dominare Sul Sul mondo magico Ma infatti È il Cilin Il puro di cuore È vero No però è vero pure Che va alla ricerca Perché Raga Parliamo subito De sto Cilin È un cazzo Di ipogrifo Misto a una fenice Si inchina Come l'ipogrifo E in cerca Di quelli fighi Come la fenice Ma un animale Un po' Però come mi ha detto Veronica Deriva da una leggenda cinese Sto bambi Che è vero Quindi Però regale È un ipofenice Io sono rimasto così A me del fatto Che ci sia stato Un errore Di scritture C'è da A cazzo Il film Mi dice questa cosa E il film Dice una cazzata Non dicono la verità Non è scontato I personaggi Ma tutti dicono Che quello lì Si inchina Il cuore Viene spiegato Una volta All'inizio E viene spiegato Come si inchina Il cuore Poi però Nessun altro Ne parla Ma lo usano sempre Lo usano sempre Come per Farlo inchinare Davanti a chi è degno Di prendere Quell'incarico E infatti Ma è una cazzata No regale Allora Vi spiego Aspetta scusate Vi spiego una cosa Su Silente Se non si capisce Silente lo sa benissimo Il fatto che Silente Non sia puro Oppure Il fatto che non sia puro Non vuol dire Che non sia meritevole Perché Silente Lo sa benissimo Scusate io non ho capito Una cosa Ma se essere il capoccia Dell'icv doppia Significa essere il capoccia Di tutti i maghi Allora perché Silente Nel cinque libro Doveva bozzare Da caramelle Ma poi ne parliamo Del fatto che si sono creati Un cazzo di Di circolo A capo di tutti i maghi Mai sentito Mai visto Però ne parliamo dopo Il punto è che Silente Il punto è che Silente Lo sa di non essere Puro di cuore Lui lo sa di non essere Adatto a governare E' per questo Che ha sempre Enunciato Come dice Come dicono i beat Al posto De ministro Dalla magia Ma non vuol dire Che non sia meritevole Anzi è meritevole Però lui dice Raga no Perché quando diventa Troppo potente Va al discorso De magi Fomento Va da pressa a Grindelwald Do fate le cazzate Quello si lega Per me va tutto bene A quella frase Capito Lui fa un percorso Sì però Se tu a schermo Mi dici puro di cuore E conta Quello che tu dici Nella mille Aspetti Voglio risponde io Maggi Aspetti Voglio rispondi io Se volete parlare Ditelo Voglio parlare Voglio di una cosa Prego No si si Aspettavo Aspettavo Che Ha fatto bene Giorgio Ha fatto bene Vai vai Fate così Il fatto è questo A parte che Come dice meglio Effettivamente Dicono una volta No Pur di cuore Ma quello che ti fanno capire Lo dicono anche più volte Che loro ci scegliano I capi di stato E in effetti Quello che non tornava Non è che tutti i capi di stato Nella storia della vita Cioè avevano il cuore puro Regà Oggettivamente Il più meritevole È stato Un errore Dire puro di cuore Da parte Proprio E quindi se è un errore È una merda Ma no Ma siamo d'accordo Sì Però tu Vuole far dire Una cosa sbagliata Al personaggio apposta Ma dai Ma che cosa Ti vogliono spiegare Una cosa Ma questo Ma trascende Hai intanto Ho cambiato l'immagine Ho una domanda Però Prego Una domanda Siete sicuri Che non ci sia stato Un errore Nell'adattamento È quello che stavo Dicine la tradizione Può essere Perché Maggi L'ha visto in inglese No no È la prima cosa Che ho controllato Ok Però Maggi Mi ha detto no Perché lui L'ha visto in inglese Io no Maggi Mi ha detto no Dice Il film si vedono In lingua originale Ho capito Maggi Va bene Ma che animale Va bene Però da quello che dice Maggi Mi potrebbe dire una cazzata Dice la stessa cosa Anche in inglese Va bene Però Non mi fiderei di Maggi Ma secondo me Non è che ci hanno pensato Hanno detto puro di cuore Per intende Meritevole Secondo me Non è che ci pensano Tanto a fare sti film Ho capito Ma stai facendo un film Dove ci investi milioni Un po' di importanza Alle parole Una cosa così importante Da devi dare Sono 27 immagini Stavamo sbagliato Stavamo la seconda Stavamo la seconda Il patto di sangue Bella Bellissima scena Secondo me Lei è pazza Perché adesso Le dico il motivo Questo patto di sangue Non ha un ca... Io dico solo quando Lo spiega Ti fa vedere che Silente Non può nemmeno pensare A fare la bua Grande A volte che Gli si stringe Sulla manina Esattamente come Il voto infrangibile Che si stringe Sulla manina Quando si venga Solo che non te fa male Vabbè T'ammazza diretto Se non riesci a farlo Infatti Questo è uguale Al voto infrangibile Non c'è Perché hanno creato Un'altra cosa Per far l'hype Perché il voto infrangibile Non si poteva sciogli Evidentemente Hanno dovuto creare Un'altra cosa Né vista né sentita Secondo me Questo patto È un'azzozzata Poi parliamo come si rompe Ne parliamo dopo però Adesso 5 secondi La scena De lui che spiega È in generale Prego Che ha parlato Madre Ma a me questa parte qui Ha ricordato appunto Quella del voto infrangibile Poi Non lo so Non lo so È come se avessero messo Dei riferimenti Alla vecchia saga Però modificati Già Dan ci arriviamo dopo Prego Scusa Ci sono Ci sono delle cose Degli elementi Che assomigliano a qualcosa Che abbiamo già visto Ma leggermente diversi E quindi tu cominciai a chiederti Sì ma questa roba Come funziona adesso E quindi hai bisogno Del solito spiegone Per farti capire Insomma un po' tutto Blu dice una cosa intelligente Perché col voto infrangibile Non ci puoi fare un gadget È vero E non è da sottovalutare Perché è un filo Un filo È vero È vero Make sense Make sense Ma secondo Prego concludi poi Poi Giorgia Però non lo so Mi ha ricordato appunto Quest'altra Quest'altra cosa Che abbiamo già visto Poi in realtà Però non Non mi ha convinto tantissimo Cioè mi è sembrato Il voler prendere Cosa di già visto Ma leggermente modificato Un po' pimpato Sì Voi come la vede Nesta scelta Prego Giorgia Vai Io non la vedo così Perché secondo me L'hanno voluto Allora è vero Che le somiglianze sono tante Ma intanto Come già detto Trono Perché a te è piaciuto Ed è sacrosanto Non ti pensavo No no sì Ma voglio spiegarti Perché capito Anche È vero che Cioè Come dicevi prima tu Il voto infrangibile Deve essere letteralmente infrangibile Secondo me qua Avano voluto trovare Un escamotage Questo sì Ma Ancora di più Secondo me La cosa che volevano Far capire loro Era Questo legame Proprio di Cioè Era Per Per evidenziare il fatto Che fosse un rapporto diverso Già tra loro due E che questo Loro rapporto Era Sigillato Da Da questo patto di sangue Da questo effettivamente gadget Che poi Però Però c'è un'incongruenza strana E vorrei dire il motivo Cioè Allora Quando vedi nel secondo film Il patto di sangue Tu pensi Ok Sarà una cagata Quello che ti pare Ma almeno hanno dato fisicamente Un motivo Sul perché non si gonfiano Fino al 45 Solo che un anno dopo Se sfragna sto patto Quindi che senso ha avuto Sono Ma E' una cosa E' una cosa in più Solo fa aggiungere una cosa in più Nella trama Ma infatti Che non ha un cazzo di senso Cioè Dal mio punto di vista Prego Poi Mediador E' strano E' strano Che loro l'abbiano fatto L'abbiano distrutto adesso Cioè io mi sarei aspettata Più una distruzione Al quarto film Che poi iniziava il quinto Guerra Capito E' più C'è guerra Lo scontro finale Prego Mediador Non lo so Allora Questo secondo me E' palesemente Tra virgolette Colpa nostra Ovvero Secondo me Questo film Quasi per la totalità Dove essere il quarto E ci sono tante cose Che vengono date Per scontate Ad esempio Tutta l'evoluzione Del dubbio di Credence Non c'è Cioè Quando rinizia il film Credence è già Nella parabola finale Di quello che sarebbe Duto essere il suo percorso E Già è in contatto Con Aberforth Cioè Ci sono Anche la stessa Queenie Cioè Queenie Finisce il film Che lei passa Su delle fiamme Che se tu non sei convinta Ti bruciano viva E poi cambia idea Ma qual era scontato Proprio come No certo No beh Era scontato Però Probabilmente L'avrebbero voluta Far cambiare idea Con il tempo E invece Sono mi hanno tagliato molto Perché visto che non sanno Se fanno gli altri Hanno detto Chiudiamo il film Con Comunque sia Una Una possibile Chiusura di serie Ma non è Anche 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 Ho capito Però Se c'è un'idea Non la puoi modificare In base a queste cose Però non funziona così Nel mondo dei grandi Se non fanno i soldi Ma perché sto Tra di voi No Però In generale Cioè tu c'è un'idea Cazzo Rimani con quell'idea Non che modifichi Perché fai Eh magari Però non lo continuo No Sei un cacasotto Devi portare la tua idea Come l'hai concepita Ho capito Ho capito Almeno Almeno tu fai Quello per cui credi Cioè Se sai che hai fatto Un buon prodotto La gente lo vedrà Cioè Se poi invece lo adatti Dici magari è l'ultimo Magari non so Cacano Viene una merda Sì però anche se è stato tagliato Ma questo è anche il film Cioè Ce ne staranno anche Altri due Secondo la loro idea Quindi che hanno tagliato a fare Se devono fare per forza Altri due film Metti caso Ma perché secondo me Altri due Non ne fanno mai Quindi ne faranno uno Non ne fanno un altro Ne fanno altri In cui fanno a botte Greenville e Valdezilenti Però A livello di tempistiche Sarebbe strano comunque Perché mo' siamo tipo Nel 27 28 E infatti E lo scontro è nel 45 Quindi che fai Fai 30 anni dopo Time skip Non c'ha senso Cioè a questo punto Ma così lungo Bene tutto questo passaggio Cioè spiegavi per bene Tutto questo passaggio E chiudevi bene Questo ciclo narrativo E poi iniziavi L'altro film Con 20 anni dopo E là Potevi saltare Farevi assuntoni Fare quello che ti pareva Secondo me Avrebbe avuto più senso Invece molte cose Non si capisce Cioè tipo Credence No che Vabbè Sicuramente Andiamo avanti Guarda Maggi Maggi Concludi te Maggi E poi Parliamo di Nel senso Allora C'è un problema enorme Alla base Io rappresento Rispetto a voi La voce fuori dal coro Nel senso che io Non sono amante Dei libri E della saga Quando io vedo Quando io vedo Un patto di sangue Non penso Cazzo C'è il voto Infrancibile Merde No Non me ne frega niente Anche perché Il presupposto Alla base Che quello è un film E il film Non per forza Deve essere pedissico A quella che è La narrazione di libri Io guardo Il patto di sangue Ma allora Non deve nemmeno Pretendere di essere Canonico C'è capito Non devono mai C'è capito Deve sta muto Mette se là E zitto Non è che uno Deva arrivare Di me no Perché nel terzo Film Su Pottermore Dicono questo Ma Pottermore Deve dare Niente Un saluto A quello che ti voglio Quindi almeno Non devono rompere I coglioni Cioè almeno Capisci Io ci sto E allora Se siamo tutti bravi Però Prego Prego Perché poi no Ma perché il problema La base è sempre lo stesso A chi deve arrivare Sto film Deve arrivare Solo ed esclusivamente Ai fan della saga Per quanto riguarda I libri No Ma non gli devi manco Sputan faccia Ai fan Capisci Va benissimo Si stiamo a fare Però Ok Siamo d'accordo Ma secondo te Il problema Che c'è alla narrativa Del mettere un patto di sangue È così Deleterio No Ok Ma infatti Io voglio seguire La tua idea Tu hai detto Hai visto il patto di sangue Attente E frega un cazzo E magari ti è pure piaciuto Si esatto Continua Continua No 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 è quello Semplicemente lì Cioè io vedo il patto di sangue Per me è un espediente narrativo Come gli altri Io non prendo in considerazione Manco ci ho pensato Che c'era il voto infrancibile Per quanto non sono così Estremamente appassionato Della saga Dei libri Ma guardo i film Per quello che sono Quindi controllo La coerenza narrativa L'evoluzione dei personaggi Se ci sono buchi di trama Se le cose che vengono messe a schermo Hanno senso Rispetto agli altri due film Perché tu devi prendere in considerazione Gli altri due film Non il libro di animali fantastici Nel primo Nel secondo film Va bene per dire Va bene Nel primo e nel secondo film Hanno messo un voto infrancibile No Quindi da loro Sì Ma come no Quello di Yusuf Nel secondo Yusuf Fa il voto infrancibile Col padre Ti ricordi E se inquadrano pure la mano Che c'ha i fili Infatti se tu non lo sai Nemmeno te lo spiegano L'ultima cosa Poi passiamo alla prossima immagine Vai Io sono Sono abbastanza d'accordo con Maggi Con la visione Perché comunque i film Possono essere anche diversi Ai libri Perché vabbè Però Io per il voto Per questo voto infrangibile Come si chiama Patto di sangue No Io non riesco a capire Perché hanno trasformato Silent in un tortellone Cioè Allora mi spiego Perché forse L'ho capita male io Vorrei un attimo capire Cioè Lui sa i piani Che c'ha Grindelwald Sì E porca miseria Ci fai Cioè Un patto di sangue Con sta persona Cioè Anche in un futuro Possibile Prima Ovviamente Non sapeva i piani Era d'accordo Con i suoi piani E non va bene Se un tortellone Ma chi va di un tortellone Sì Alla Livio I piani erano I piani erano Di soggiocarli I babbani Non di ammazzarli Ma non è da silente Per un bene superiore Perché se no Non è da silente Per te che non ti sei letto i libri Perché è da silente È il piano Dei 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 cattivi Per educare Per educare l'umanità Da silente Fare una cosa del genere Per educare l'umanità Alla Eren Per educare l'umanità Devi Alla Reccaio De Kenshiro Li devi comandare Pure con la paura Perché se no I babbani si scannano Tra di loro E devastano il pianeta Te la fa vedere qua La seconda guerra mondiale Quella è una cosa figa Da incastrare In umani fantastici Ma poi Lo dico Silente Da piccolo Perché era giovane Ma poi da giovane Cambia idea Quando si rende conto Quando more la sorella Sì ho capito Perché era un piscchiello Innamorato In chat mi dicono Ma era giovane Beh cioè Quanti anni avrà 45 Non lo so Quanti anni avrà Ma ce ne aveva 16 Quando ha fatto il patto Tipo Non mi pare Dalle immagini Cioè Tutta la mano pelosa Cosa Nello specchio Si vedono Quando lo fanno Piccolini Livio mi devi stare sul pezzo Nel secondo film Si vedono Lui vede nello specchio Loro da giovani Schifpa Livio Quello è il sesto libro Ti fanno vedere Nello specchio Ma tra l'altro Mi ricordano anche dalla chat Cioè Laura i film Possono essere diversi dai libri Non è vero che devono essere uguali Silente È sempre Un'altra sete di potere Anche quando Vole ai toni della morte No Insieme al Green Vado appunto E tutto C'è in realtà È una cosa ricorrente In silente Esatto Infatti anche la sua morte Luziosa E vogliosa di potere Poi Crescendo È maturato E si è reso conto Appunto Dei suoi errori Ha cambiato Magari Mentalità Si è pentito Di alcune cose Di altre meno Però comunque Ma manco così tanto Cioè nel senso Come così Nella saga del ripotto Era uno stronzo Silente Non è che Allora Silente L'interpretazione autentica Di Silente È Un uomo Conscio Dei suoi limiti Conscio Che se ha troppo potere Sbarella E quindi Delega pure per questo E quindi Sta nella sua Scuolettina Tipo Xavier Non vuole più di quello Questo è Silente Lo sa e soffre pure Dei suoi errori Ma nonostante questo Come dite voi C'ha sempre sta punta Da stronzo Più forte di lui Ed è per questo Che more Perché lui Vole vedere la sorella E usa la pietra Maledetta Le volte E morta Se sfragna la mano E poi C'è more pure Perché volevo farlo Perché so stronzo Ve lo vedemmi sorella Perché c'ha sto trauma Incredibile Quindi capirei Silente C'è poverino Ma infatti È tutto Poi dovuto Che è stronzo Nessuno è perfetto Ma Adorno che ho visto La prossima immagine C'è mamma capretto Sì esatto Prego Meliador Poi andiamo avanti No 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 Ma dico Sono d'accordo Con te C'è nel senso Silente Se tocca E a volte Sacrifica Consciamente I diritti O le emozioni Dei singoli Per un bene superiore Che Lo fa sempre Bravo Esatto Lo fate sempre Lo so Questo Nell'ottica Dell'essere umane Non è sempre visto Benissimo Anche se L'ottica è superiore È manipolatorio A livelli Indecorati Sì sì Giorgia Ti è piaciuta Mamma capretto Parliamo De mamma capretto Bambi Che io Parcino Ma ho fatto Un po' Di storie Cazzo Il remake De Bambi È veramente Greve Sembra davvero Un remake De Bambi Onesto Poi parlare De Bambi Ovviamente Dobbiamo Parliamo De sto Cilicio Stagnamento Ma già Molto da dire Abbiamo già Detto Che Voglio sentire pure Che dice Laura Parlo alla fine E parliamo Anche del fatto Guarda Uniamolo Perché se no Non andiamo avanti Parliamo pure Vediamo se c'è La quarta immagine Se c'è Nella quarta Del fatto che Green The World De lo più e lo sgozza Come una cattiva Eccolo piccolo Angelo Guardate Io Pensavo Io Quella scena Non si capisce Perché io pensavo Fosse il potere Del Del Cilicio Vedere il futuro Tipo Perché dal sangue Lui vede il futuro E la gente Può abiettare No Quello è il potere De Green The World Random Ma primo Green The World E' un altro Veggente Del cazzo Secondo Nel secondo film Te fanno vedere Che lui fuma Una pipa Con teschio E uno si flasha Magari lui Col teschio Che era un Veggente Poff Avece ste visioni Che poteva pure Scusatelo Invece no Lui lo sgozza Solamente perché Gli serve un capretto Morto Che faccia Sceneggiata Non ha un cazzo Ma uno Vedendolo Pensa che Deve vedere Il futuro Col capretto Ma non è Così Non è così Non è così Mi sa che non è così Non è vero Che non è così Secondo me Lui ogni volta Che vede Degli spazi di futuro Fa una sorta Di incantesimo Necromantico Diverso ogni volta Però Fa sempre qualcosa Cioè in quel caso Era il capretto Di cui aveva bisogno Per vedere il futuro Dopo Rivede il futuro Quando sta nella vasca Ma scusa Ma c'è c'è il teschio Quindi Grindelwald Leach confirmed C'è c'è il teschio C'è c'è il teschio Dove fuma E veda la seconda guerra mondiale Ma non si è rotto Non l'aveva rotto Ma come si è rotto Si è rotto il teschio Ma quando si è rotto il teschio Mi pare che si è rotto qualcosa Alla fine del secondo Per cui non poteva più Ma ti pare che alla fine Ma no Rega Vedete se Il teschio è andato di scrutto Veramente Eh vedi Ma siete sicuri Trovate una scena L'ha rotto leta Il teschio Ma che veramente Vabbè dai Non è che puoi farmi Lata senza fare niente Ma scusa Non esisteva un altro teschio Il teschio deve sgozzare i capretti Ma allora ti dirò di più Lo sai quale sarebbe stata Una bella scena Il fatto che Quando lo risuscita Che io già la stavo a sbarella Però perché il mitico Comunque Mi dicono che nel film Lo hanno detto Anche questo potere Devo gradare ragazzi Aspetta No aspetta Intanto Mi inquadro un attimo su lui Che non posso Benissimo C'è un problema tecnico Scusate Ale Ale Metti tutto schermo nero Metti tutto schermo nero Va bene Va bene Oddio è partito Allora De che stava a parlare Vabbè quando chiude Ce ne faremo una ragione Poi lo riattacco Faccio un attimo di pausa No stavamo a dire Una cosa importante Sul capretto Sì Boh Io mi stavo sentendo male Ah scusate Una scena potente Sarebbe stata Nel film lo hanno detto No dico solo questo Nel film lo hanno detto Che il cinema Ha anche questo potere Cioè lo dicono proprio Ah ok Perché a me la gente Mi ha detto No servire solo per il capretto Sarebbe stata una scena potente Se lui lo risuscitava E lo riammazzava in ciclo Pensa che brutto Io mi sarei strappato i capelli Ma Eh infatti Eh ho capito Ma un film si fa così Con le cose crude Con le cose che te sconvolgono Sì E invece poi lo usa Come pupazzetto Ma bambini Vogliamo parlare del fatto Che si sembra Da una parte C'è sta Newt così E poi vedi i cadaveri Putrefatti Che li sgozzano Non si sa Questo film Se sia per bambini Io ho visto delle scene La gente muore male Veramente Eh C'è sta Tipo la tarantola Fa un casino clamoroso Però Prego Continuate Io vorrei sentire Maggi Perché Prego A me Poi prendiamo una pausa Dove io ho un power Allora C'ho quattro minuti Sarò veloce A me del capretto piccolo sgozzato Non me frega niente Mamma capretto è un buco di drama gigante Non c'ha senso di esistere mamma capretto Perché se vuoi te lo spiego anche Perché non c'ha senso di esistere Con la scena di merda Con mamma cavetto Perché Allora Mamma cavetto Di vista tu hai deciso Che il queen per te Non ha più significato Di esiste Quindi non è che poi Improvvisamente dopo Ritorna Perché o cazzo C'è un queen Si credeva estinto Fine Si credeva Allora Come no Lo trovavamo in passato Ci stanno più No E non funziona così Mi utori Trova Fermo Funziona così Tu a un certo punto Sai che c'è grande mamma capretto Che fa i bambini Va benissimo Poi dall'anno dopo Sai che c'è ancora mamma capretto L'anno dopo Come fai Stinguersi Nella Come fa Cioè tu stai decidendo Il leader supremo Con mamma capretto Che fai caprettini Come fai Stinguersi Questo passaggio Come fai a non renderti conto Tu sei il consiglio supremo Del grande magia Che decide capo supremo Della magia Vuol dire che tu non puoi In qualche modo Aver dimenticato Far sì che non esista Più il capretto Perché E' il lavoro di Newt Quello da andare a cercare Specie estinte Tipo un'esventura Incazzato E quindi Adesso che c'è Danone il capretto Lo usano Capito Si ma è il passaggio Tra c'è Non c'è Che non va bene Come puoi pensare Che sia estinto Cioè Nel momento esatto In cui tu sai Che quel tizio Decide le sorti Del leader mondiale Mi sfugge Come fai A far sì Che non sai Che sai Che si è estinto O come fai A sapere Che non esista più C'è proprio un passaggio Intermedio Non va bene Io ho interpretato Tutto in maniera Proprio diversa No Si è più semplice Comunque vabbè C'è sta È una Una recriminazione Che Bravo Maggi Però per me Sono altre cose gravi Prego Prego Io l'ho interpretata Come un Nell'antichità Usavamo questo metodo Per le elezioni Piuttosto che Le votazioni normali Quest'anno Visto che ce l'abbiamo Di nuovo Incredibilmente Usiamo questa cosa Così siamo sicuri E quindi le elezioni Non hanno senso di esistere Perché fare le elezioni Allora Tu stai screditando Praticamente Tutto quello che Non le fanno Infatti alla fine Danno retta al capretto Sì Ma benissimo Però il passaggio Culturale È che tu sei passato Dalla decisione Di un animale A fare elezioni Facendo passare il popolo C'hai ragione Questo è bellissimo Perché è vero Tutti che votano Sì il mio diritto Di votare Anche a pretto No decido io Ma baffa Sglozzate pure L'altro capretto Quel bastardo Monarchico Di un capretto C'hai ragione C'hai ragione 24 ore Hai screditato Quella che è tutta L'evoluzione Del tuo pensiero Riguardo alle Democratiche elezioni Cioè non c'ha Sesso in questo Hai ragione Sì Ah già Diciamo La dittatura Diciamo Diciamo l'ultima dose Piccola pausa E poi parliamo Di quello che Continuate a dire Finché non moriremo Per whereby Poi riattacco Un'altra stanza Ma scusa ma Ma streamier Non mi piaceva Streamier Io devo editare Nella mia vita Cioè ci ammettevo Troppo tempo Mi stava Fa paura Se vuoi te la faccio Io la stanza Ma veramente Perché ci può Basta poco Ti penso io Anche perché siamo 6 Quindi c'entriamo No io adesso Mi devo No Ci deve salutare È morta È morta Paga Io pagherei pure Però serve la carta Di credito solo Fammi un whatsapp Buonasera Non mi si vede Continuiamo a parlare Eh I mezzi professionali Io lo vorrei pagare Werb Però la carta È in casino Che ne dite Ciao Brigata Twitch Stiamo dicendo Delle cazzate Signori Scusate Vi leggo poco Perché io Già devo gestire Poi è in casino Grindevo il preferito Eh A me Johnny Depp Mi dispiace Però secondo me L'hanno conciato malino Quindi Mike ha fatto Il lavoro suo Mo torno eh Ma se io Ristarto il meeting C'è l'ho un'altra Tra un'ora di tempo No Devo fare un altro E devo rigosa Aspetta Se io Deleto questa Yes delete Faccio Animali Il bello della diretta Signori Non Non mancate Rimanete Siamo a noi Che torniamo subito Start meeting e rieccoci copio problem solving senza che te li metti a faccia abbiamo un'altra ora perchè tanto un'ora quella è ah si sto ancora guardando qua il chilling lo ripasso a Livio aspetta lo ripasso a tutti eh vedi madre ma che te stai a dare mannaggia miseria eh lo so è schioppato da sola madre ma stavo parlando aspetta mori continui scusa che ti devo dire perchè non mi fa vedere i messaggi questa zozzeria si è bloccato tutto finito tutto è finita la vita non riesco più tiranno scrivimi tiranno eh trovo il link eh appunto te lo passo a te o foros ariannina chat in privato con ariannina c'è un altro link mo mo mi è in bocca ma che mi è in bocca non si vede il link si vede solo l'inizio vai passa l'allivio e poi l'allivio lo passi a tutti perchè non vedo più i messaggi perchè perchè è contro di me scrivete in chat jerry il prossimo blackout a 45 minuti no un'ora non lo so poi mi sa che dovremmo fa due live eh tiranno c'è un altro link tiranno anime light live ciao fammi chattare in privato passatelo a tutti la madre dei draghi madre scrivi cortesemente senti che intanto per ballo guardate l'onda se vede non credo allora sta rientrando gente Livio let Livio in eccoci ci abbiamo un'altra ora non so quanto allora aspetta stavo parlando la madre passalo a tutti i tuoi amichetti yes vabbè ma noi parliamo anche della Fenice grande capretto che si inchina comunque si il capretto che si inchina fa un sacco ride si dai vabbè senti abbiamo il capretto ma poi dicono Newt sa che ci stanno sti capretti no ma dirlo a qualcuno metterlo in una riserva l'avevo fatta l'ho capito ma perchè non viene protetto arrivano quattro strozzi a caso te l'ho mandata su whatsapp calcola eh non ce l'ho whatsapp c'ho un'altra pastizione del pc è un casino aspetta dove lo posso mandare abbiamo 45 minuti no ma 45 minuti sono sufficienti poi usiamo quella se cevate continua che siamo pazzi come vi pare come vi pare le hai passate a Meliator e Maggi si si l'hanno inviatino diranno Jerry gliel'ho passata alla madre cortesemente intanto continuiamo a parlare allora vorrei finire parlare quello che voleva dire alla madre però intanto raga cominciamo a parlare delle cose cicciosse alla fine il capretto ci ha fatto ride però adesso parliamo della big revelation uno vi voglio chiedere Maggi soprattutto tu come cazzo comunicavano con lo specchio ah bella questa io non ho capito assuramente questo mi ha fatto ruoter il culo pure a me prego quello fa parte del film che non c'è mai stato quello in cui quello in cui i due specchi comunicanti vengono odati a Credence a per fortuna ce l'ha già e a Credence viene fatto arrivare questo specchio in un modo che noi non sappiamo perché fratello esistono specchi comunicanti però tu concordi con me che tu valuti l'opera per com'è cioè non puoi dire loro lo vogliono fare ma non l'hanno fatto no però aspetta 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 non ti spiegano come ce l'ha però è un fatto che ce l'abbia cioè qual è cioè non è che è un buco di trama il fatto che non te l'hanno spiegato semplicemente hanno glissato sul come loro hanno questo oggetto ok madre scusate è tornata la madre volevo finire di parlare eccomi mi sentite ok stavi dicendo perché adesso devo andare però vi volevo un'ultima cosa prego avete visto all'inizio del film regar targaryen chi? che fa il bullo dove? no ok è l'attore di regar targaryen che fa il bullo all'inizio qual è uno dei bulli uno dei è quello quello tutto scemo che cominciamo a versi in modo strano ma il bullo dici con con coso con il pasticcere con Jacob pensate non me l'ha raccorto non me l'ha raccorto e niente è così ci lascia così madre qua stiamo a chiacchierare che è già passata un'ora mi dispiace perché stiamo arrivando no ma ci mancherebbe vuoi dire una cosa volante sul fatto dai parliamo anche di questo che Credence si rivela essere il figlio di Aberforth prego madre poi salutaci sempre meglio sempre meglio figlio di Aberforth piuttosto che figlio di Silente mamma mia ho capito come l'hai presa come l'hai presa male però ho detto appunto meglio figlio di Aberforth piuttosto che figlio di Silente quindi va bene così ti posso dire se ci ragioni cioè o era proprio una calla il fatto che lui fosse un Silente ma se doveva essere veramente un Silente era l'unico modo sensato eh sì è l'unico modo che potevi dire c'è sta perché gli altri modi non no non si conosce il personaggio no dai Silente filo di Silente no dai non si conosce il personaggio di Aberforth non ha senso se conosci il personaggio di Aberforth dei libri ma ovviamente i libri non ci hanno però capito però regà pure sta cosa ha poco senso perché Aberforth quando devo presentare adesso e tu lo vedi apposta lo riconosci perché hai letto i libri e poi mi dici che guardando il film non devi dare retta ai libri ma io lo riconosco che io voglio bene e me ce l'hanno messo apposta perché ho letto i libri di che cazzo stiamo parlando ma infatti scusate eh però allora infatti è questo però ci stava pure cioè secondo me può essere successo può essere che lui mi aveva mai detto vi faccio un breve breakdown su Aberforth così anche chi non ha letto i libri Aberforth è uno è il matto del villaggio non è per cattiveria ma quello andava in giro con le caprette la madre di Creedence è molto più probabile che sia una capra una capra o Ariana perché stava sempre con la sorella a sto punto era meglio Ariana l'incesto l'annister style perché una persona che tira la merda di capra e pia cazzotti in faccia al fratello al funerale può andare in spiaggia o a bella e esce Creedence e poi ma è più vista ma che cazzo state a fa' secondo me ma rimorchià ma deve era un po' rustico cioè era più probabile quello che ci fosse un altro fratello per dire ma la cosa che fa veramente rosicare secondo me diciamo che nell'assurdità dico solo assurdi ma poi prego e il fatto è che raga vi saluto grazie madre grazie grazie a voi ciao ciao a tutti ciao 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 sì matro stai a fare sempre lo stesso errore tu parti dal presupposto che conosci libri devi dimenticarti il fatto che conosci i libri questi so allora se io non conosco i libri questo è un personaggio mai visto nel sentito e tra i stigmossi vabbè che si vede nei film di harry potter si vede nel film di harry potter e va bene e ci può si ho capito si però vabbè è vero che è l'unica spiegazione possibile ma comunque ti ripeto chi ha letto i libri deve sta zitto e vabbè e pace all'anima però uno va in casa no no non sono d'accordo mi stai distruggendo tutti i personaggi dei libri e questo non va bene infatti è questo è che secondo me con la scusa del vabbè ma tanto la gente non lo sa fanno cose che ti fanno del culo secondo me se la so gestita bene e poi il dramma ma non è che la gente non lo sa occhio è una reinterpretazione dei libri fatta a modo loro quindi non deve essere per forza ma allora scusate hai ragione ma allora chi cazzo manda avanti le strange perché tutti pensavano fosse una cazzata perché un le strange deve andare avanti e manda avanti alla dinastia chi cazzo Yusuf ma i le strange si ammazzano ma perché i le strange sono stronzi non perché io per carità i le strange si staglia ma come ma lo sai che questo è un dubbio che mi è rimasto si cazzano questo è un dubbio che mi è proprio rimasto bella trix scusami ma se sono tutti morti chi porta avanti le strange me la so proprio chiesto glielo ho detto pure a signore poi iniziamo in calcini ma gli ho detto scusa ma quindi le strange poi che vera quello non ci capisce niente di Harry Potter però c'è una cosa che mi è rimasta qua sto pallino è una cosa che non abbiamo però questo è sempre sempre relativo secondo me quello che Dio c'è perché sono morti tutti le strange che non è manco le strange infatti Yusuf scusa scusa prego infatti no dico poi magari invece c'è una famiglia di un ramo cadetto delle strange che non conoscono che vabbè vuol dire che non esiste più le strange in tutto il globo non lo so con quanto c'è è un mare un po' sembrava ma come riga ma si ma come ma lo dice nel secondo film corbus le strange che rompe cazzo perché non riesce a un figlio e poi fa un figlio solo ma non vi ricordate aspetta però corbus potrebbe non essere l'unico ramo le strange e allora perché stavano tutti e allora perché stavano tutti no riga se no non sarebbero stati tutti impicciati per le rete che non si riusciva a fare le rete no ma non dico ma non dico nel fratello dico che il nonno delle strange poteva aver avuto un altro figlio che poi col figlio del padre che è il padre di corbus cioè in senso di ramati però capisci che si complicano la vita da soli capito ma guarda che secondo me non la tirano più fuori sta storia delle strange a casa è fatti ma così come credence però ne parliamo dopo un'altra cosa che volevo dire di queste scene dello specchio no a parte il fatto stesso che tu dici ma come fanno averci lo specchio e vabbè ma un'altra cosa ma perché da quando loro si parlano cioè vabbè è una cosa tagliata non sai quanto è lo skip temporale dalla fine del secondo film all'inizio del terzo ma lui che cazzo ne sa meno di un anno cioè perché parla con Aberforth esatto perché parla con Aberforth perché forse gli ha detto la verità aspetta no perché gli ha detto Green the World la verità Green the World gli ha detto se lui sa che sta parlando con Aberforth no no perché glielo dice Silente poi Silente quando fanno quel piccolo scontro a Berlino ah è vero che cazzo dico Silente gli dice guarda che te magari si c'è l'herzangue di Silente perché c'è la finisce ma non mio ma no ma non sei il mio fratello cioè il sangue di Silente ma non sei mio fratello e la finisce che cazzo sto dicendo mi cugino sei e quindi poi che poi quella frase fa parte del primo tempo che mi era piaciuta perché quando Silente gli fa così tu fai ah lo vedi è un bel trick chissà come si inventa spero che si finisca bene invece col cazzo però vabbè però per dire ma pure come lo dicono poi che è fio cioè buttano là sì e questo è questo il punto che fa veramente Rosigall è che gli hanno dato poca importanza quando in realtà Credence dovesse un po' la chiave no il punto è che te la buttano via con due righe detesto due questo è fa incazzare quello era tuo figlio quello sì ciao addio arrivederci grazie ma questo perché questo perché secondo me anche con il cambio Depp Nicholson hanno dato un taglio diverso a Grindelwald e quindi se prima e Grindelwald girava intorno al manipolo se Credence per fargli uccidere Silente qua invece è diventato più politico il Grindelwald e quindi ha dato meno spazio alla parte diciamo familiare e più spazio invece alla parte politica su larga scala e quindi c'è stato poco spazio per Credence e molto più spazio invece per appunto per queste dinamiche politiche sì ma non va bene se è un personaggio vitale nei primi due film vabbè guarda io lo tenemmelo per dopo ma parlamone adesso che alla fine more ciao è destinato a schioppare ma come fa un personaggio che Cristo lo abbiamo portato grazie come fa un personaggio che tu segui più di Newt per tutti i due film oddio il passato madre coso appare in tre scene e poi morì senza senso questo è morto non ci serve più ma come non si doveva salvare ma non era allo scopo di un film cercare di salvarlo ma come no è andato al creatore è semimurenti no è esploso ha salutato il padre ciao chicco divento porvere e Fanny si è levato al cazzo pure quindi perché stavo a parlare però bella la cosa che Fanny era brustolita perché lui stava per morì il fatto che si vede già dal trailer che è un po' ma perché è così scuretta perché sta a morì appresso a coso anche se nessuna finice lo fa mai lo fa se sta per morì la finice però lasciamo stavare infatti io non ho detto prima di questo inesime cagate totali quando è morto silente in realtà nel principio mezzo sangue non c'è stata si sono immaginatori però vabbè mi è piaciucchiato ma Nagini ma Nagini ma già scusate ma già Ezra è la scoreggia che appare in tre scene figurate Nagini Nagini basta ma infatti riga infatti guarda secondo me c'è ragionamento meglio hanno tagliato dei pezzi grossi perché voglio dire un'ultima cosa lo specchio si vede lo specchio del quinto sesto e settimo anche se non si vede tanto nei film lo specchio con cui comunica con Sirius si vede piccolino intatto vicino a Ariana quello è lo specchio ma lo specchio è lo stesso spezzato che comunica lo stesso specchio non so due specchi capito quindi anche questi due specchi in se capisce è la magia è la magia è la magia magari magari ce n'è più insomma secondo me quando non ti fanno vedere una cosa per quanto uno li possa criticare non può dire con assoluta certezza che è un errore ma infatti sticarsi però così non vale così non vale secondo me sticarsi dello specchio volevo solo sapere come era possibile che loro cioè perché loro stavano a parlare perché c'era questo nuovo rapporto questo è stato tagliato questo è stato tagliato ma ovviamente è una cosa essenziale se ci fosse stata una parte credo che qualcuno del team Silente in qualche modo deve aver fatto arrivare questa cosa a Credence oppure è una cosa che lui ha da quando è bambino non ha mai capito il significato in realtà era l'ascito della famiglia per tenersi in contatto non lo so non lo so però l'avrebbero probabilmente spiegato così hanno tagliato tutto mentre sti cazzi non lo spiegiamo Livio che ne pensi allora di questa parentela figlio di Aberforth va benissimo così a te è piaciuto quando l'ha sentito questo è tuo figlio fine è tuo figlio no nel senso che non è una cosa su cui mi sono soffermato non avendo letto i libri ma guardi i libri è il cazzo di plot twist del secondo film è tutto concentrato su quello stronzo dimenticato nel terzo quindi in teoria uno dovrebbe essere attenti ne fai un cazzo ma uno dovrebbe essere no ma ripeto io allora partiamo con un presupposto io non sono un iper fan della saga ok io guardo il prodotto e vedo se mi piace e basta cioè nel senso così poi Harry Potter mi è pure piaciuto c'è tanti errori tante cose i film però nel senso in generale guardo la cosa se mi convince va bene se non mi convince non va bene sta cosa beh ok sì e come hanno finito il personaggio di Creedence come l'hanno trattato sì l'hanno trattato un po' di merda eh ho capito finì lì c'è il problema che Slamiller sta più dentro un galera che fuori sì ma ai tempi no ai tempi no infatti è questa ma era già una mezza testa calda ma ha fatto incazzare molto di più la tizia che sta adesso a schermo sinceramente chi eccola siamo arrivati alla signorina Queen lei mi ha fatto proprio incazzare quindi ma mai quanto un altro personaggio l'inutilità Yusuf però mamma mia mamma mia io pensi non aver mai visto una storyline così ah io c'è una teoria prego allora vabbè no ne parliamo per Yusuf dopo se no va bene intanto Queen prego Maggi Queen ha l'unico vero qui potete ammirarlo nella posa McFry meme not sure no meme di Queen è un personaggio del merda doveva essere super convinta poi a un certo punto non è più convinta e poi intorno a lei potrebbe girare un teorico buco di drama che è relativo a Yusuf al fatto Yusuf va lì grazie a una mega strategia di silente consapevole il fatto è che questa gli eleggia la mente quindi la tua strategia va a farsi benedire ma lei lo copre lei lo copre ma tu silente non lo sai però cioè tu silente non sai che lei è stata la tua parte quindi vai all'arba bianca praticamente con la consapevolezza che lui ha una una telepade con sé quindi giochi molto sulla botta di culo e questo si lega anche a un altro screen che a sto tutto le faccio vedere subito per questo diventa un tortellone secondo me il buco di drama vero è questo ma i ricordi deleta che cazzo ne fanno cioè Yusuf non si ricorderà mai più deleta Yusuf quindi non ha neanche più le motivazioni capito cioè non c'è più nulla perché si dovrebbe riconvertire di nuovo non avendo più le motivazioni dei ricordi io c'è un'altra domanda ma perché a quello gli fregava davvero deleta cioè non manco la voce sì perché lui fa il doppio gioco lui è il piton 2.0 lui va in mezzo al nemico senza fare nulla a cosa è servita questa cosa quando hanno fatto la spia la mia teoria quando dove non si vede una alla volta non mi fate cazzà Giorgia prego la mia teoria è che non ce l'hanno fatto vedere ma lui ha fatto letteralmente cioè qui ne l'aveva capito che lui era dalla parte dei buoni ha mentito affinché il piano riuscisse cioè io l'ho vista così e per forza sì ma l'ha benissimo l'ha fatta apposta l'età secondo me era una cazzata perché a lui di l'età non gli è mai fregato un cazzo ma non è vero l'età ma perché ma lui la voleva ammazzà ma poi fanno pace no ma lui è classico sì fanno pace 5 minuti vabbè 5 minuti per l'amore eh però lui deve vendicare la famiglia io mi chiedo io mi chiedo una cosa aspetta fammi finire ti prego sì scusa quindi secondo me vabbè di l'età magari se gli fregava vabbè diciamo che gli fregava però relativamente gli hanno fatto levare il ricordo della morte magari lui l'ha modificato ci ha capito gli ha levato il ricordo della morte in quel modo lui si pensa che l'età è partita che cazzo ne so quindi gli ha levato quel ricordo però poi effettivamente non si ricorda tutto il resto oh ma il fatto che secondo me è una strategia che loro hanno avuto ok ma il fatto che ci abbia senso non vuol dire che non faccia schifo cioè questo sono contee aspetta infatti poi sono dell'idea che quindi Queenie è sempre stata la parte loro cioè pure lei faceva il doppio gioco effettivamente dall'inizio e non può dall'inizio c'era la linea dell'età quella che dice Meliador dall'inizio di questo film ho capito però non te lo spiegano ho capito cioè in realtà è tutto lo vedi dalle sue espressioni Livio lo vedi perché lei guarda quello che sgozza il coso e ti dice sì ok però il fatto che uno mi dice Yusuf qua fa il doppio gioco in realtà riportava le cose se non me lo fai vedere io non lo so cioè questo personaggio dice tre frasi in tutto il film e mi è sembrata una parentesi totalmente inutile del film proprio a livello di sceneggiatura fa ribrezzo questa roba qua sono d'accordo con te però ti dico lo capisci è esclusione perché è l'unico modo cioè perché loro sapevano che Silente sarebbe stato a Berlino che cazzo ne so perché gli avrà detto lui e magari perché Silente sapeva di una determinata cosa perché gli l'aveva detta lui sì ma io posso pure pensare che lui di notte di notte vada sugli asini volanti a bombardare le città però nel senso se non me lo fai vedere lui è l'equivalente del patto di sangue umano che alla fine alla trama non aggiunge più niente dava un po' di senso alla seconda perché era un mini villaine che si cappotta da solo ricordiamolo lui sviene davanti alla cella lui sviene davanti alla cella dopo che l'hanno cioè veramente che cazzo fai quindi questo già ti fa capire come sono scritti mi dicono in chat ma allora Teseus che è morta la fidanzata sembra un coglione perché appunto sono Filippo e bambini lui deve essere anche che sa bene e fanno ma quello ma quello è un problema anche della Marvel è un problema di tutti e sono tutti dei rincoglioniti però io voglio ma per forza i film li fanno così ormai voglio fare un appunto bastava che mi tagliavi 30 secondi di qualsiasi altra parte comica lui che fa così bello mi tagli 30 secondi mi metti Yusuf che fa la spia ma 30 secondi giusto per capire che cosa serve questo tizio lì cosa ci stai a fare cosa stai tramando e poi alla certa vabbè mi schiaro torno di là ok ci sono delle scene tagliate da Grindelwald e Queen al castello prima di Yusuf appunto sono tagliate stanno bene ho capito però sono tagliate io non le prendo in considerazione perché hanno tagliato quello e non hanno tagliato Meliator guarda io mi incazzo per Meliator perché Meliator guarda io fossi Meliator ma me compreso mi gonfiere di botte perché lui è tanto carino e non vuole interrompere ma tu devi interrompe ma non è vera questa cosa prego Meliator interrompa ma io vado sempre tanto caruccio infatti io dico sempre prego Meliator prego perché anche io parlo perché è più forte e poi gli faccio prego Meliator scusa scusa perché me ne accorgo io per primo prego Meliator allora secondo me Yusuf in generale per quanto uno possa forzare a giustificarlo non funziona proprio perché come dice Trono anche se gli trovi una qualche logica fa comunque cagare cioè proprio inutile so un minutaggio sprecato per fare altro e soltanto perché ce l'avevano per le mani ora probabilmente perché non avevano Tina hanno rimesso Yusuf per fare conto par non lo so sì che c'è il Covid questo non lo so e secondo me tra l'altro la cosa che appunto tutto il piano di Silente si basa sul fatto che quindi stia tratendo secondo me è ingiustificabile mi devi almeno far vedere una volta in cui Silente per qualche motivo capisce che Queeny sta tornando oppure che se il Pettone in contatto sarebbe bastato Queeny avesse mandato porco giù da un gufo ho cambiato idea cose di 30 secondi cioè cose veramente di 30 secondi magari c'è c'è sfuggito io l'ho visto solo una volta poi ok passiamo al prossimo topic bellissimo Jacob e la tipa che lui lo chiude fuori dalla pasticceria e lei entra perché non è un vampiro cazzo è un mago io imbocco che cazzo fai e a cosa serve quest'uomo e anche lei alla fine X X per far per aver cenato nel party perché già erano pochi tu dici no? perché era una strega forte perché sono tutte cioè logicamente si viva qualcuno che sapeva fare magie cazzo forse il piano di Silente era appunto puntare sull'amore che aveva Queeny per Jacob infatti Jacob l'unico senso è appunto per far sbarella Queeny se no che cazzo te lo porti a fare il babbano per farlo morì prego no ma non solo secondo me è proprio perché Jacob c'ha questa cosa che per il bene degli altri dei suoi amici delle persone a lui care fa cose ricca quindi i maghi sono tutti figli della mignotta non c'è un mago come Jacob serve il babbano paffuto non dico questo però non è una cosa da tutti ho capito però lui era l'unico che poteva effettivamente come hai detto te far tornare i Queeny dalla parte di buoni quella è l'unica cosa esatto e forse ma poi Jacob è la linea comica è il tizio lo metti là fa il simbatico una cosa sensata è il martellone della figlia una cosa sensata sarebbe appunto che lo vogliono usare apposta perché è lui che fa l'attentato e per far fomentare l'odio per i babbani se proprio chiedevo ma io non posso fare laura ai sceneggiatori e cercargli una scusa plausibile perché non te lo fanno capire neanche questo regge ma sì perché alla fine è lui quello sempre la scena della cena è una vergogna io non sono d'accordo lui è il caproscatore in due scene sia alla cena che alla fine quando lo crucia Green the World vedi il babbano di merda quindi forse appunto per far vedere alla gente quanto è stronzo forse Silente l'ha voluto sfruttare come carne da crucio non lo so secondo me sì secondo me queste due cose cioè quello del fatto che è l'emotività che può riportare Queeny indietro sì in realtà è molto forte quindi come alleato e poi sì secondo me cioè non ci avevo pensato però mi piace anche quest'idea cioè di avere un babbano per destabilizzare Grindelwald che con questo lo vediamo sempre calmo, pagato che cerca di fare il doppio gioco per farsi sembrare una persona rispettabile non ha fatto niente di male esatto quindi secondo me ci sta ma poi posso dire cioè secondo me Jacob è un personaggio riuscito cioè Faride funziona boh a me piace l'attore è bravo alla fine guarda pure a me l'attore è bravo ci sta però è riuscito diciamo in delle scene e guarda a me piace quando te fa vedere tipo lui che va contro i bulli ma non tanto per qua scena cringe dei bulli alla fine ce sta ma perché lui ha fatto la guerra di far vedere un uomo ogni tanto vedo gli sprazzi di un uomo di una volta veramente che lui lo interpreta bene uno che non è che ta manna di capito quindi io sono d'accordo sul fatto che siamo lavatori eccetera sulle tante volte gli fanno fa no lui che corre sulla aspetta no perché no cioè allora parliamo di cose serie questa scena no io ok ho capito che è un film e che bisogna ride e scherzare però raga lui che corre sopra la cosa di carta che alla fine x è la tizia della carta di naruto usa sempre la carta dai ricordi quella è bella questa scena usa sempre la carta che gli fa le scale con l'esplosione di eard ma perché quello più avventuroso è il babbano paffuto ma questo io non lo questo me fa questo fa incazzare perché boh il babbano deve morire vada che davrà ciao ma perché secondo me hanno visto hanno visto un personaggio che effettivamente funziona e piace al pubblico e lo dovevano mettere dentro no è bello anche che ci sia il babbano in mezzo non c'è mai stato un babbano in mezzo alle avventure per un motivo perché muore quindi poi ovviamente il babbano è quello che tu empatizzi lui è come me c'ha la bacchetta che gli danno la bacchetta di portarci oltre come me vorrei essere mago quindi è proprio giocare sui sentimenti facilmente però date una regolata prego Maggi che parla poco ma non è che parlo poco è semplicemente questo qui è un personaggio messo a schermo perché è funzionato nei primi film quindi l'hanno dovuto a meno per cause dei covid non mi ricordo che cazzo c'è avuto quindi semplicemente hanno dovuto puntare sui personaggi forti cercando di farli mettere l'unica cosa interessante per cui cercano in qualche modo di giustificarti il personaggio a schermo è che Grindelwald lo vede con una bacchetta in un flashback futuro quindi inevitabilmente Grindelwald può pensare che in qualche modo sia questo non sapendo che è un babbano una specie di pseudo nemico terribile e quindi ecco che ti giustificano la scena della cena mi fai ammazzarsi ma i pari guzzanti però mi hai perso guzzanti non è certa però c'hai ragione c'hai ragione serve là serve a quello non sapevano come giustificarlo che in teoria il trio sta serie funziona a golden tree Harry e Hermione in teoria il trio il trio deve essere lui che è il Ron della situazione Newt e Tina Tina Ancera lui l'hanno usato così quindi c'è pure ragione che sono pure un personaggio in meno e sono riusciti però non fa di un cazzo a nessuno complimenti qualcun altro vuole dire prego perché in realtà secondo me hanno comunque dovuto paradossalmente presentarti di nuovo il cattivo cioè perché comunque sia anche se Grindelwald lo conosci in realtà ti devono mettere in testa che non è più Depp cioè c'è un nuovo cattivo e te lo devi ricordare ma sarebbe figo se diventassi alla Parnassus che nel film dopo c'è sta un altro bello è per forza a sto punto perché nel primo Corri in Fire è il secondo Depp oppure il ripieno Depp però la vedo grigia secondo me tengono Mikkelsen ormai anche perché gli hanno dato questo taglio molto più politico che secondo me a Depp non torna cioè Depp è molto più inquietante a me è piaciuto molto devo dire come come ha interpretato Grindelwald e beh ha ripreso molto il personaggio di Le Cifre di 007 secondo me senza infamia e senza lode alla fine è molto ma forse anche il personaggio forse lui è così è molto diciamo de sasso no molto freddo se lo vedi se lo vedi anche quando ha fatto la no vabbè perché se tu lo vedi è proprio uno stile di recitazione quando ha fatto la serie Hannibal effettivamente me lo dicono che sembra Hannibal magico è monoespressivo perché comunque c'ha sempre sta faccia molto tenebrosa le cifre ma anche quando ha fatto per esempio il film King Arthur in cui fa uno degli sgherri dei galoppini di King Arthur fa quel personaggio misterioso perché lui si vede che proprio come Physic Doll si presta a fare sta cosa sì sì funziona funziona invece io riguardo questa cosa non so se poi ci sono delle immagini su Vogel su chi? amma mia su Vogel il ministro tedesco volevo mettere a posto questo perché ve lo parla d'Ariana però aspetta mettiamolo subito è quella prima parliamo intanto vai vai secondo me invece è un bel personaggio che molti non hanno capito ecco parliamo di questa cosa vai perché ho pure Naturia prego sì sì ok perché Vogel in realtà dalla prima scena lui ti fa capire che è in combutta con Greenval cioè in quel momento in cui gli parla Newt lui diciamo sceglie o ha appena scelto di stare dalla parte di Greenval esatto quindi tutto quello che fa da lì in poi è sempre per andare a favore di Greenval compresa la frase per cui molti sono secondo me confusi che dice all'altro membro del concilio quando gli dice dobbiamo permettergli di correre per le elezioni se glielo impediamo se glielo impediamo ci sarà una rivolta e ci sarà il sangue invece noi lo dobbiamo far elegibile per poi farlo perdere lavora per lui esatto quando in realtà lui stesso sa che è tutto un piano per provare poi a farlo elegere infatti quello si è capito anche dalla frase come dice un chat scusa sceglie ciò che è facile e non ciò che è giusto come dice Silente esattamente però è una cosa molto contemporanea secondo me cioè questa cosa di dire che tutti devono avere libertà di parola perché altrimenti siamo ingiusti bisogna far parlare tutti ma in realtà spesso chi ti dice questa cosa è lo stesso che vuole che magari quella menzogna o quella fake news prenda piede mascherandosi da tizio che invece vuole la libertà per tutti ma infatti è così guarda vorrei pure aggiungere una cosa sarebbe per chi non sapesse allora vabbè di Harry Potter in teoria non esiste questo circolo mondiale dei maghi capo di tutti i maghi c'è sta il ministro inglese ha visto caramell non si è mai visto il ministro mondiale c'è sta caramell in Inghilterra e qui c'è sta questo tedesco sarebbe stato figo uno secondo me almeno che sarebbe centrato anche coi libri se Green vuole fosse diventato ministro tedesco e poi magari ministro della magia tedesco al posto di questo e basta senza inventare questa cosa mondiale e poi magari visto che fanno un film ogni città il prossimo in Italia e vincono i fascisti no per farli tutti convergeno alla seconda guerra mondiale come si vede nel secondo film sarebbe stato figo se anche coraggioso secondo me il primo ministro della magia e Hitler a quei tempi che è Green The World il primo ministro della magia o fossero proprio lo stesso che Green The World porco giù da sei maschera oppure che facessero combutta per fare il male sia dalla parte dei babani no è molto coraggioso forse anche troppo però sai che puoi e non puoi perché come l'avete presa voi sta cosa del mondiale prego scusa Giorgia scusa prego no intanto ti rispondo all'ultima domanda vai mi ha fatto strano anche a me anche se l'ho pensata più come un ci sarà qualche ordine no tipo mai sentito mai c'è la confederazione internazionale dei maghi per chiarità ma non è che è il capo di niente non esiste ognuno c'è il ministro suo e amen non c'è tipo il presidente dei ministri ma quando magari si è evoluta presidente della confederazione ma non si la cosa mondiale ma il capo ognuno è capo della sua nazione cioè non è come l'america che uno comanda i maghi ma dove vai ma dove vai qua io ti sto dicendo che qua l'hanno messa come se lui dovesse comandare tutti i maghi tutti i ministri ma che cazzo fai no però questo è un pre questo è un pre magari dopo andando avanti proprio con questa saga capiscono che non si può avere questo tizio che comanda tutti e quindi splittano i poteri che si arriva a quella perché non mi ricordo però non mi pare che ci sia mai però vabbè questa è una cosa mia la confederazione ma ricordo più il punto è che metterla così potente se doveva parlare dovrebbe essere un po' più importante per l'altro discorso secondo me non potevano fare riferimenti proprio storici netti capito cioè magari farti capire il mood cioè che il mood anche tra i babbani era lo stesso di quello che poi si era venuto a creare anche se lui fosse diventato ministro tedesco ci stanno i parallelismi ci stanno le similitudini però allo stesso tempo non puoi collegare nettamente a un personaggio storico realmente esistito cioè secondo me sarebbe stato proprio un po' è però è così che vogliono farla intendere perché nel secondo film ti fanno vedere la guerra mondiale finché lo fanno intendere anche nei libri e fanno notare le somiglianze tra i due mondi anche perché tra l'altro Grindelwald è contro i babbani quindi allo stesso tempo sarebbe andato un po' cioè come fai ti metti d'accordo con il ministro babbano ma sei contro i babbani cioè non ci avrebbe manco troppo serio vabbè gli è da una mano gli è da una mano a sbraviarne il più possibile capito sì però boh per il bene superiore ma guarda che anche nei libri è fortemente perché lo sconfiggi alla fine della seconda guerra mondiale silente a Grindelwald ma assolutamente lo fanno intendere che c'è qualcosa capisci ma sono assolutamente d'accordo ma infatti finché oppure lo potrebbe impegnare a Hitler però no quello sarebbe brutto perché te farebbero passare Hitler come una vittima ma in tutto il film il mood è quello cioè il mood è quello che tu stai in Germania sì una Germania che sai che sai quello che sta per succedere no esattamente e infatti si vedono anche persone che ne so quando passano Yusuf o come si chiama la strega che sono di colore fanno delle espressioni e questa è una cagliata micidiale perché in America fischiano in America manco un herbast e fanno salire e invece vanno in giro e Brigitte e Bardock cosa malcetti il po quelli che fanno ridere fanno proprio sorride per fatte capire però che c'è questa intolleranza no sì e ce l'avrebbe messo pure in America sì vabbè però intanto per fatte capire che loro non lo rascondono però sì te lo fanno vedere che ci sia quel mood anche non solo tra i babani ma anche tra i maghi c'è quel mood in Germania in quegli anni quindi proprio perché le somiglianze sono tante secondo me ci sta che le cose vadano in parallelo ma che poi si incontrino no questo intendo che vadano in parallelo sì che vadano in parallelo sì vedremo anche appunto secondo me nel 45 ci sarà proprio no la cosa che dici cazzo guerra mondiale in più sto scontro sta cosa e chissà come lo vorranno tra l'altro perché poi dovrebbero girarlo in Italia l'ultimo da quanto so quindi appunto a Roma anzi a Roma a Roma a Roma proprio qualcuno ha trovato qualcosa il consiglio superiore di sti maghetti per cazzo è una merda di dimensioni bibliche mannaggia la fontana bravissimo allora voi mi dovete spiegare per quale cazzo di motivo c'è grande capretto che fa gli ovetti ma no quello non lo sanno ma ci viene l'uso fermo fermo partiamo dalle basi ok una volta che si perde questo grandissimo quilly non si sa come si è perso il quilly perché cazzo se decide le sorti del leader mondiale secondo me tu non puoi dimenticarti della sua esistenza non puoi dimenticarti del fatto che stessi estinto no non c'è su questo siamo d'accordo facciamo che abbiamo deciso di fare le votazioni adesso votiamo tutti quanti insieme viva la democrazia vita al voglio al popolo torna al cerbiatto infatti questo torna al cerbiatto un'altra cosa che fa ride pure questa ma il problema è un altro chi cazzo decide a quel punto che bisogna tornare al voto del cerbiatto è Vogel che fa decidere agli altri ma no perché tu lo sai nel tuo cuore che lui sceglierà meglio per tutti perché il cerbiatto è disinteressato ma ci deve essere una votazione no no dicono per acclamazione ma il cerbiatto per acclamazione sì ma qua qua il pubblico le persone sono tutti degli idioti ci sono degli autori no no però ragazzi gli animali fantastici è come quando la felice ti sceglie no no io voglio dire una cosa c'avrà ragione la felice e quindi c'avrà ragione voglio dire una cosa anche perché fra poco me ne devo andare quindi volevo dire un attimo questa cosa le persone i maghi in questo film sono delle macchiette che non hanno cioè non hanno una personalità sono semplicemente degli automi che girano e fanno cose viene viene eletto il un tizio che teoricamente dovrebbe essere un pluriricercato e nessuno dice niente quando viene eletto l'alcapretto ah sì perché per loro è un rivoluzionario che si inchira tutti a fare vai 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 poi dicono no guarda che è una merda così viene eletto l'altro e tutti vai 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 oh ma ce l'avete la personalità testa di cazzo io vorrei capire un attimo la mentalità dei maghi che ci sono in questo mondo sono degli automi che stanno lì semplicemente per fare massa per fare massa nessuno che dice niente c'è Grindelwald che teoricamente era ricercato fino al giorno prima che passa nessuno dice oh grande Grindelwald nessuno uno uno strozzo e dice oh ma questo c'è e sono i nostri eroi quelli sì sono i nostri eroi sì ma io non capisco non capisco ma come gli anni 40 tu non capisci com'è possibile che quello sia andato al potere sì ma quello quello non era ricercato fino al giorno prima capito ma è ricercato per dei motivi di merda secondo no questo guarda secondo me qua però te lo spiegano anche nel secondo film che c'è sta la martire tutti quelli che hanno assistito vanno in gira di questo lo stanno a ricerca ma lui dice cose belle sì ma lui è tipo c'è che vara per il popolo ma qualsiasi cosa ma qualsiasi cosa sono delle macchiette in questo film oh sì c'è la parazione torniamo al capretto torniamo al capretto sì sì dai facciamo sta cosa oh sì 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 dai ma c'è quello oh sì 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 è tutto così tutto sì 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 con una semplicità no sì è vero il fatto che sembra una sequenza di scene un po' messe così anche a me mi ha dato quell'impressione perché del drama ce n'è pochissima semplicemente compare sto cazzo de Quilin all'ultimo secondo delle votazioni che poi si chiama come Krilin giua solo quello là quello là ma è impossibile che nessuno dei maghi se chiede facciamo che c'è la Vogel scusa Vogel tu c'hai sto grande capretto qua te ne esce a 30 secondi dove l'hai preso perché non ci hai detto niente prima nessuno gli viene in mente che c'è qualche macchinazione assurda dietra volta in qualche modo a sovvertire quello che è l'ordine mondiale nessuno pensa che come cazzo è possibile che hai estinto e ce l'hai te come ci sei arrivato anche Silente ma tu scusa sei il grande mago Silente sai benissimo che stai facciamo che Silente manda come si chiama Newt a prendere l'ovetto perché Silente sa dell'esistenza dei capretti a Silente non sa un cazzo Silente Newt è il lavoro suo andà in giro a trovare le specie estinte ho capito però Silente una volta che Newt porta il capretto sa dell'esistenza del capretto e a Silente non gli viene in mente di contattare l'ordine mondiale dei maghi e dirgli erica guardate no perché Silente fa sempre le cose in segreto perché c'ha pura la corruzione esatto esatto però ragazzi queste cose scusa oltre a questo Silente ancora non è un cazzo di nessuno capito no 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 Silente è considerato il mago più forte cioè a parte che questa è perché questa per lui burocraticamente sì quello non è mai stato un cazzo è un mago potente sì però alla fine la sua parte non so come di non è che sì per carità ma non se lo cagano quello sì non è come incidenti che sappiamo noi non sono d'accordo sì sì però no regà aspettate un attimo mi sono scordato in una delle prime scene quando Newt va da Föger allora Föger è una delle personalità più influenti nel mondo magico ok sì e Föger dice ma c'è Silente cioè come per dire davvero c'è Silente cioè Föger vede Silente come superiore anche a lui che è una delle più alte cariche ma perché lui è forte eh quindi quindi non è vero che viene ignorato ma regà non ho detto che viene ignorato ma perché i maghi scusate fatemi vedere una cosa i maghi vengono giudicati in base alla forza quindi Silente non è mai contato un cazzo ma nemmeno nei libri dopo ok che c'ha tipo ordine di Merlino però al governo lui non ce vuole entrare tutti gli chiedono aiuto anche in sto film perché qua la giornata di Silente è 45 anni questo è il Silente più giovane che vedremo mai pensa te già è uno dei più forti che tutti vogliono che andà mannallo contro Green the World è già un super figo però diciamo non conta un cazzo politicamente capito Paolo di un'altra cosa che si legava a questa non mi ricordo mannaggia la peppa prego prego tu Silente qualcuno niente silente io masche dell'attualità ok mannaggia non mi metto comunque allora parliamo di Arianna anche se perché mi sa che sta per esplode tutto parliamo di Arianna tanto io io devo scappare va bene grazie a tutti grazie a te oh ciao ciao ragazzi bello fratello grazie per essere stato qua film di merda film di merda 4 e mezzo ciao va bene bello ciao parlando di Arianna era uno Boscurus ma voi sapete chi è questa Arianna che ha visto solo i film no la sorella o dice nel film è rimasto immobile sì però a voi non ve ne frega niente capisci come fai a staccarli dei libri prego Giorgia prego scusa no no scusami oddio sento dei rumori no no vai 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 scusa vai 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 no quello che volevo dire è che appunto la cosa che a me mi aveva fatto storcere il naso già ai doni della morte è che non avevano mai parlato di Arianna o comunque sì l'avevano buttata là ma non avevano mai spiegato bene tutto il passato di Silente infatti a me questo film mi ha gasato per quello perché finalmente ne hanno parlato anche se poi delle cose brighe sempre sì sì però almeno capito sono già aperti di più cioè effettivamente sappiamo i segreti di Silente quelli che volevamo sapere da sempre no che non abbiamo mai saputo ora li sappiamo anche chi non ha letto i libri li sa però però a me è piaciuto soprattutto perché ti ripeto ha senso sta cosa dell'obscurus è un retcon è un altro retcon che ha senso perché potesse solo un obscurus allora visto che ha tutti i sintomi pure Ezra certo che due Silente ed obscurus complimenti che entra però vabbè poverina cazzo a te immagini proprio non te ne frega niente poteva morire centomila volte tu sei fan della saga e quindi noti questi particolari perché hai letto i libri ma a uno che non ha letto i libri e guarda i film mi dice vabbè ma la gente li va a vedere per questo ma non solo chi fanno ma allora perché mi mettono Arianna e mi dicono potranno tagliarla visto che non era importante ma no perché lo scopo no perché lo scopo è cercare di caratterizzare Silente perché in quel caso non conta lei in quanto sorella conta sorella nell'evoluzione psicologica del personaggio di Silente che si redime che comunque ha un passato truculento ha un passato turbolento e di conseguenza è vista dal suo punto di vista è lui quello che conta in quel caso è lui che comunque deve introiettare questa cosa della sorella della morte della sorella e quindi caratterizza lui con la sorella ma non lei a uno che non ha visto e ha letto i libri dice ah ok c'è una sorella sti cazzo mi ne può fregare bene anche perché non gli danno importanza loro proprio alla sorella tu sei fan della saga sei fan dei libri e di conseguenza dici no cazzo ma la sorella è fondamentale la sorella ha un ruolo molto più centrale importante e di conseguenza perché non me la metti così a schermo come presente nei libri hanno fatto bene a metterla così perché anche nei libri la storia è per caratterizzare Silente e soprattutto perché è fondamentale in questa scena che praticamente tutta la storia che ti dicono di Silente è la storia dei libri ed è per questo che magari c'ha pure un po' di senso e chi ha letto i libri è contento di vederla perché basta poco non è è fondamentale per questa scena con Ezra scusa eh ma Trono ma se ci pensi anche il titolo i segreti di Silente dei Silente di tutti i Silente non solo di Albus ok però nel senso se tu pensi a per esempio a Silente e lui soltanto quali sono questi segreti che lui ha c'ha questa scosa che lui può essere direttamente responsabile della morte della sorella esatto e quindi tu hai un'immagine di questo Silente completamente diversa da quella che era la teorica che avevi fino a prima quindi ti ripeto quella scena con lei il quadro serve per caratterizzare lui della sorella in sé per sé che ne fotte a quello che non ha letto i libri no no ma io sono contento di quella scena infatti ti stavo chiedendo a te che te frega a te te frega no 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 io l'ho vista in questo modo è stata interessante per caratterizzare e sul fatto che sia stata un Obscurus perché quello te lo dicono per chi ha letto i libri ovviamente il fatto che ti abbiano detto anche lei era un Obscurus no no io vedo quella scena e penso semplicemente è una scena messa apposta lì per far fare tutto il monologo a Silente e per farti capire come lui porta un macigno nel cuore enorme di questa sorella morta e del fatto che lui forse è responsabile o quantomeno si sente responsabile della morte della sorella è questo sì sì ma infatti secondo me è una bella scena tra l'altro tutti quelli che non sono grandi fan di Harry Potter perché non hanno letto i libri quindi leggetevi i libri e non guardatevi i film ok comunque qua si ricrea praticamente quello che successe con la sorella tutti che semenano si incrociano gli incantisimi incrociano i flussi e non si capisce dove Anna sbatte che poi non ho capito ma Cridenz muore per la malattia dell'Obuscurus no perché viene colpito non fa la fine di Ariana direi di sì però cioè io quello che quello che non ho capito alla fine si ripete la storia prego prego scusami prego no niente più prego perché è rimorta signori faccio l'ultima stanza che qua stavo a continuare a parlare è un casino e Giorgia l'aveva fatta però come la è un casino perché su Whatsapp non ce l'ho piripipipipipipipipipipipi faccio prima così mod datemi un'ultima mano tato ormai sono diventato un esperto così tata tata joint meeting io lo vorrei comprare ti giuro ma Solo con la carta Giorgio Ameriador Siamo alla fase finale eh Vi leggo un attimo anzi Io volevo dire una cosa Sussilente prima Mannaggia la peppa Solo che Mi sono scordato Era una cosa bellissima Era un Perché non siete più persi? Era un Vabbè Se è importante mi tornerà in mente No non l'ho visto il video di Kalel Non l'ho visto Lo devo fare io il video Ecco Ameriador Ce l'abbiamo fatta Continua Quello che stavi dicendo Che ne pensi questo Paracone Ezra che è la nuova Arianna Perché questo è Allora Aspetta che lo Lo mando Lo mando pure a Maggi A Maggi Sì No io dicevo Secondo te La dimensione specchio È la stessa Quando combattono Ah quella 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 Cioè per chi non ho capito Sono due cose diverse Ecco secondo me Quello comunque sia Una cosa difficilmente Aggiustabile col futuro Perché È un Cantesimo troppo forte Sì si è inventata Stona una dimensione Che non ha un cazzo di senso E soprattutto Questa volevo tenermela Per il finale Ma assoluto parliamone Ci può gonfiare Grindelwald In quella dimensione specchio Ma come Ma mi stai a dire Che non puoi fare botte E poi fai a botte Nella dimensione specchio Vale Ma che cos'è Però lì Già si era rotto il No si è rotto dopo mi sa Si è rotto mentre si gonfiano Perché poi ti dico Secondo me Che vuol dire Vabbè parlamone subito Allora Secondo me ha senso Quella Quella fialetta di sangue Se È intesa come Non un altro Horcrux Che bisogna romperlo Perché quanta cazzo Di roba indistruttibile Ce deve stare in sto mondo Ma quando Silente appunto Mette da parte L'amore E comincia a menaglie Quindi Lì si rompe Perché Silente Prende una posizione E allora ci starei Anche se come te lo spiegano Non è così Perché ogni volta Che pensa male di lui Gli è stritola la mano Quindi Io voglio vederla così Ecco Giorgia Ciao Giorgia Guarda Secondo me È una cosa tipo Che In quel momento Le loro Cioè Entrambi Nutrono Delle idee contrapposte E quindi Il sangue in qualche modo Si divide Ecco Giorgia Sì ma Le idee contrapposte Ce l'avevano Cioè non è che Moe Silente Crede ancora Nel bene superiore È vero Però Grindelwald Invece ha sempre Ha sempre fatto in modo Che rimanesse Vivido Quel patto Invece in quel momento È la prima volta Che anche Grindelwald Fa qualcosa Per andare contro Col patto E quindi forse È per quello Che si Il patto è solo Di non aggressione Grindelwald Fa come gli pare È una salvata Per Grindelwald Capito Esatto Però in quel momento Aggredisce qualcuno Vicino A Silente È piaciuto Ghostbusters Qual è la prima regola Di Ghostbusters Ma incrociare i flussi Perché T'hanno detto prima Hanno incrociato i flussi Non mi frebuta No comunque Stiamo parlando Il patto De sangue Non mi frebuta Perché L'hanno distrutto Il patto Perché Come cazzo È possibile Che prima Ti dicono che Silente Non può attaccare Poi sta dimensione specchio Ma io ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho Io ce l'ho La risposta Io ce l'ho La risposta I appunti di immagini Signore Allora È tutto scritto A un certo punto Ognuno ti fa Senti scusa Ma che è successo E Silente gli risponde Vabbè Lui voleva uccidere Io volevo proteggere Ci siamo incrociati Chiamiamolo fatto Ma io che cazzo C'è un cazzo di senso Gli ha risposto così Capisci che Una riga Per spiegarti Tutto un mondo De teorie che ti hai rifatto È proprio Fa proprio incazzare È questo che te fa capire Che i sceneggiatori americani Noia Noiava proprio No no Io su questo sono d'accordo C'è questo pure Secondo me è molto F4 basito Mamma mia Saccheggia nelle serie coreane Sbrial Gli ultimi dieci minuti Secondo me sono insalvabili C'è Dal capretto Che gli muore in mano A Wegel C'è Nel senso Scusa C'è tu il capretto Lo fai Che muore C'è adesso Anche se non fosse arrivato L'altro capretto Prego Dopo due minuti Quel capretto S'abbioccava lì da solo Quale E valeva ancora Ah sì infatti Poi muore Poco convenientemente Sì ma quello è ovvio Deve fittare Per la fine del film Il film è schioppa Al capretto Ho capito dai Che poi allora Allora Parliamo pure di questa cosa Perché per rianimare Quel capretto Lui si mette nella pozza E tu pensi Questo può stare suscita davvero Invece è solo per rianimare Una bambola morta Ma non bastava Non bastava Ma non bastava Il cantesimo Pupazzum E quello Vangiro Scusa Ma che era quella roba Reinnerva Ma che cazzo Reinnervi Reinnerva serve Quei stupeficium Quando Stai svenuto Reinnerva Come che lui Cioè quel capretto Torna in vita Ma per un tempo limitato Non è vivo È uno zompettino Che poi si squaia Eh sì Non è proprio vivo vivo Cioè Ma se no veramente Ma che dobbiamo scusare Ma lei donita la morte Sarà buffonata Ma che veramente Abbiamo trovato un modo Per resuscitare le persone Ma al secondo dono A che cazzo serve No certo Sono d'accordo Ma una delle leggi Maggi Non poi Vogliamo venire Ok Maggi Che Non devi non per cazzo Ma vogliamo andare Contro proprio I sagri principi Del fatto che Ti manda avanti Alla trama Allora Trasfiguriamo pure il cibo E famo festa Nessuno deve lavorare Morite tutti ammazzati Già il fatto Che creano i vestiti E non si fa Perché c'è la gente Che vende i vestiti Nel mondo di Harry Potter Quelli vanno tutti Sì infatti Sono d'accordo E vabbè però Max E un'altra cosa Ma poi entra A parlare di Harry Potter E famo un bocca pure Max E cazzo Dai Bocca Max Mandate la roba Max Se vuoi venire Prego scusa Ti stiamo andando a te Non te rompe troppo Scusa Giorgio Sprego No ma che Mi facevano notare Della chat Un'altra cosa Che pure a me Ha fatto lo del culo Viga Volano senza scopa Molti Vabbè quello lo dico In anni dei video Però qua stiamo trascendendo Da animali fantastici Aspetta però No però era diverso Perché mangio a morte Cioè ci poteva stare pure Che era una cosa Vabbè secondo me Dove essere una cosa Solo di Voldemort Che vabbè Però ci vuesse pure Eh ci vuesse pure Che però Gliela Che ne so Una cosa che Voldemort Gli insegna Eh a Piton solo però Perché è bravo Piton Non è che puoi volare Sì però per dir Cioè ci vuoi Se ci vuoi cascare Vabbè ma c'è stata Sì lo vuoi perdonare Ma qua Cioè perché Credence vola Perché gli altri volano Perché Credence perché Nobscurus E quindi Sì però è vero Sì ma poi fanno Delle cose cringe Tipo Che ne so Grindelwald Sta pure nel trailer Prima lo attacca Poi se te le trasporta Gli mette a mano al collo Ma che cazzo Ma che tipo De combatti Ma come Vabbè però Anche Cioè anche Di raggiare A mano al collo A mano al collo Quello diventa farina A mano al collo Prego scusa No dico Anche nei film Cioè secondo me Loro hanno Scientemente deciso Che alcune regole Delle magie Non Non le devono rispettare Cioè si possono fare Magie senza bacchetta Quello va bene Si può volare Per fare la scia figa Perché vogliono Un po' di spettacolari Da in più Però per il fatto Che usano le bacchette Ci sono stati più attenti Perché adesso usano Sempre le bacchette Forse veramente Hanno capito che Deo non lascia perde Andrà verso Star Wars Perché tutti usano Le bacchette adesso Quindi ci sta E poi riescano a farlo Il combattimento figo Tipo quello Silente Voldemort Nel quinto Usano un po' le manine Ma c'hanno sempre La bacchetta E semenano Così fanno i maghi Come i direttori d'orchestra Uno può dire Sarà cringe Sarà no Però invece è figo Il direttore lo fa Harry Potter Quindi rimetti le bacchette Ma poi come dico sempre Nei voi vende Ste bacchette Ma falle Vede no Non puoi vendere La mano di Green The World Cioè Deficienti E questo è un altro Punto a favore Però io Hai visto tutte le cose Che abbiamo visto Che proprio sono buchi Di trama incomprensibili Come fa la gente A dire che pure E ti rendi conto che Anche io forse un po' Penso è il migliore dei tre Oh alla gente è piaciuto Alla gente è piaciuto Il terzo film Di noi Sì Di Spider-Man No Way Home Che so i feels E lo so Ma pure Infinity War Che so i feels Ah sì Allora Per me No Way Home È insalvabile Cioè questo film C'ha dei problemi C'ha dei problemi Questo film Però c'ha anche C'è Allora C'ha dei personaggi Che funzionano Secondo me Nel senso Guardi con piacere Le scene di Grindelwald Le scene di Silente Le scene di Newt Le scene di Jacob Tutti i personaggi Poi Molto secondari Fanno cagare E E la trama Ha dei buchi Però Ma quella È una cosa più importante Sì In la trama C'è un senso Perché se no Veramente vale tutto E allora Al prossimo film Si scopre che Silente È babbano È così Perché C'è sempre stato uno dietro E tu devi stare zitto Capito Perché vale tutto Questo che mi dà fastidio La trama deve essere lineare Però prego Non te lo interrompo Allora Però per esempio A te Fa più piacere Il fatto che sia godibile Tua Magari la trama Ci passi un po' sopra Io me Allora guarda Guarda Dipende Dipende Dalle Dalle cose Cioè In questo In questo film Più che buchi di trama Ci sono cose non spiegate Ci sono stati Diciamo furbi Ok Ci sono un sacco di cose Che Scricciano tantissimo Ma che di fatto Non sono spiegate Non sono spiegate Non sono spiegate E quindi No ci sono dei buchi Sì No vabbè Però Perché parla qua A Berforte E Credence Eh però Può essere che Fuori schermo Siano entrati in contatto Ho capito Eh fuori schermo Però appunto È un buco di trama Non è un buco di trama È la stessa cosa Non è un buco di trama Cioè cose non spiegate Uguali È molto forzante Allora te lo dico Guarda Lui parla dall'inizio Con lo specchio Perché allora Deve venire Silente A dirgli Guarda che tu non sei Perché parla qua A Berforte Dovrebbe parlare con Silente No perché No perché È Credence Che poi va da Silente Per provare a ucciderlo Eh ma lui non sa Che A Berforte è il padre Eh Se no non proverete Non lo sai Non lo sai Perché No perché Silente Glielo dice Gli dice Tu sei un Silente Ma non sei mio fratello Perché io lo dovrebbe dire No vabbè ok Cioè non sa Se è il padre o il fratello Lui non sa la verità Però di fatto Ah ma tu dici Perché vuole tornare in famiglia Non sa un cazzo Vuole tornare in famiglia Padre fratello Insomma Pazienza Però ok Però uno Uno se Allora vediamo I buchi di trama hai detto Secondo me Un buco È quello che Quini Sta con loro Senza che nessuno lo sappia E quindi Il piano Funziona solo perché Quini Gli legge il gioco Secondo me quello è un buco di trama Perché Non possono sapere Il buco è anche il fatto Che Yusuf Perché non si capisce bene Come funziona il pensatoio Pure io ho i dubbi Perché in teoria Anche Silente ci dice Che lui leva i ricordi Per far spazio In memoria Letteralmente A disc Però tecnicamente Se tu te levi il ricordo Non ti dovresti ricordare Più il ricordo Lo dicevano la stessa Forse c'è un sentore De quello che provavi Quindi Se Grindelwald Sta sicuro Qualsiasi Siano Le sue intenzioni Gli eleva il ricordo E lo butta Uno quel ricordo Manco è conservato Quindi i ricordi Gli eleva ciao Due Lui diventa Ancora più Dritto per dritto Nonostante Quini Gli è pari il culo Sì però Secondo me Yusuf In realtà Di base Te lo vogliono far passare Con una persona Buona Cioè Lui Persegue Una Una singola vendetta Ma per il resto Lui secondo me Proprio come ideali È più vicino a Silente Che a Grindelwald Quindi Tu dici che continua comunque Col piano Esatto Esatto Sì Pure secondo me Secondo me Secondo me ci può stare Poi ragazzi Ci sono un sacco di magie strane Me lo trovi a ripetere Pepe dei buchi Onestamente Tipo anche la 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 Il mondo specchia Cioè proprio Non Quello è un buco Perché quello 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 è enorme Come buco di drama Perché Poi tu ti chiedi Ma perché poi Non l'hanno più riusato Dopo E perché non lo sapevano Che esisteva È un retcon Da qua Esatto Però so cose tristiche Uno non gliene ha in mente C'è stanno 8000 modi Per cercare di metterci Una pezza Devi fare la dimensione Specchio Che non esiste Vabbè Ma poi Ma poi Senza un vero motivo Cioè Potano combatte pure Nella Nella vera Berlino Ma infatti Non succedeva niente Insomma Boh Quello è strano Sì Quello non si è capito Ma Cioè Ci sono tante Anche Diciamo Motivi di drama Faciloni Cioè ad esempio Per quale motivo Mettono dentro A quel posto Tisius Cioè Lo vuoi ammazzare O non lo vuoi ammazzare Lo ammazzi Se non lo vuoi ammazzare Lo metti in un posto In cui rumore Per sbaglio È prigioniero È prigioniero Condannato a morte Vabbè Queste guarda però Queste sono cose Che io perdono Nel senso A me danno fastidio Proprio veramente I buchi grossi Tipo Oppure le cose Che non hanno senso Oppure le cose Che spiegano Che tipo Che è fio di Aberforth Sapendo tutto il passato Di Aberforth A me questo Davvero È fastidio Capito Quindi questo Queste sono cose classiche Dei film Che è morto e non morto Vogliono fare la scenetta Prima i granchi E poi la gente infirzata Solo perché ha starnutito Se starnutita Teseus Moria pure Teseus C'è perfettamente ragione Però ti pare che mori È stato messo lì Solo per salvarlo È una condanna a morte Mascherata Dovano fare la scena Con gli animali Di Newt Che poi è pure carina Però Capito Però Perché non mi ricordo Sto film Però ti voglio fare Esempio sul secondo Le cose che io non perdono Sono per esempio Nel secondo film Newt e Tina Che stanno In mezzo Alla missione segreta Dentro Cosa francese Che cominciano a parlare Quanto è bella Tina E gli fa vedere foto Cioè lì stanno Al secondo So queste le cose Proprio inopinabili Che fanno incassare Come le bestie C'è ragione Quindi So queste Poi Pensi pure altre Cioè tipo Io quando penso A tutto il discorso Di Green del Val del Secondo Dico Cioè sono contento D'averlo visto Cioè sono contento D'aver visto quel pezzo Perché mi ha lasciato qualcosa Effettivamente Mi ha per la prima volta Messo in una condizione Per dire Cazzo però effettivamente Se fossi un mago Forse pure io Vorrei Controllare il più possibile Gli esseri umani Perché fanno dei danni Lavorosi Eh infatti È una Beh però Sì Vabbè Sono le cose classiche Anche dei dittatori Per dire Bisogna Oppure Chi punta sulla paura Verso il diverso Capisci Soprattutto se tu sei mago Devi nasconderti Perché è questo che non sopportano Perché mi devo nascondere Se ho il più forte Prego Giorgia Giorgia Parli Quello che volevo dire Riallacciandomi più che altro Al discorso di prima È che Sì I motivi per cui mi è piaciuto il film Sono stati Che sono i filz No Sono stati perché Falla a finire Cioè Sì vabbè Un po' sì Nel senso che Un po' è È perché da fan Mi piace sentirmi raccontare La storia di Ariana No E del passato E tutto Anche se poi l'hanno Trattata un po' così Però Mi ha fatto piacere Molto di più E poi in generale Mi è piaciuto Come hanno trattato Determinati argomenti Nonostante appunto Questi buchi Che Cioè Non è da dieci Capito Però mi è piaciuto Di più degli altri Perché Hanno trattato meglio Gli argomenti A cui i fan Sono legati Secondo me Rispetto agli altri film Sì Poi I buchi di drama Ci sono Ma Che poi È giusto quello che dice Mediador In realtà Bastava qualche spiegazione Piccola in più Per colmarli Bastava anche un po' di senso In più Cioè Darci una Una direzione Però in generale Rispetto agli altri due Mi è piaciuto di più Cioè Sono uscita dal cinema Che ho detto Ah Cioè Mi sentivo un po' più tranquilla Perché invece Negli altri Cioè Tipo Soprattutto dopo il secondo Sono uscita dal cinema Incazzatissima Dico ma che cazzo Ma che cazzo Mordica Un Silente Non è possibile Cioè ero proprio Incazzata nera Che tu poi Inizi a fare tutti i film Su come poi Potrebbe essere La cosa che io Mi ero detta è Deve essere una cazzata Che ha detto Grindelwald E tu ti è Mala Fenice Cioè secondo me La cosa migliore Era che era una stronzata Che gli aveva detta Solo per metterlo contro Silente Che poi C'era tutta la storia Del fatto che Credence Sarebbe stato l'unico In grado di Conviggere Silente Che io l'ho interpretata Più Perché Secondo Grindelwald Silente Non avrebbe mai Attaccato Un altro Obscurus Perché Un parente No non un parente Ma si per quello Eh però Dal mio punto di vista Prima Deve vedere sto film Era perché Era una cazzata No Quindi dicevo Però cazzo Lui è un Obscurus Quindi se Silente Se lo trova davanti Ci rivede Ariana Ma io penso Che pensavo Che quello fosse C'è l'Obscurus Di Ariana Che magari era passato Perché loro lo dicono Nel secondo Che passa pure Da fratelli Magari Eh lo dico Quando stanno dentro Al camioncino Tipo Dentro il bus A inizio Quando Silente Parla con Newt E quindi io pensavo Magari Silente Riguardo l'Obscurus Ci rivede Ariana Farà una soppoperata Oddio Questo Obscurus Sono tutte parente Qualcosa E invece no C'è una grande realtà Che ha detto Matioschi L'altro giorno Quando abbiamo parlato Del film Che questo film È importante Perché c'è il secondo E quindi deve mettere a posto Varie trame Iniziali nel secondo Ma se tu levi Sia il secondo Che il terzo Sì Praticamente noi adesso A fine terzo Siamo uguali A fine primo Cioè Poi vi lascio Che devo andare Funziona così Loro sono partiti Da una base Facciamo animali fantastici Diamo importanza A questo personaggio Di Newt Vediamo come va Quanto so belli So fighi L'animale Proviamo a fare Una cosa diversa Gli è riuscita Secondo me Non relativamente bene O quantomeno hanno detto Sai che c'è Ai fan piace la saga originale Dobbiamo cercare in qualche modo Di sviluppare una trama Che sia complementare A quella che è la trama originale Cioè I film Quelli di Harry Potter Cercando di far rivivere A tutti quelli che sono fan Tutto quello che è La marcord iniziale Della trama Che si sviluppa Nei sette film Ma cercando di dargli Quel qualcosa in più Che noi non abbiamo Mai messo a schermo Sai qual è l'esempio perfetto Star Wars con Rogue One Come cazzo hanno fatto A prendere i piani neri I piani della morte nera Che non si è mai capito Quindi loro hanno cercato Prima di portarti da una parte Che era quella Dei animali fantastici Hanno capito che però Quella direzione Non stava andando bene Perché comunque i fan Animali fantastici Mezzo che non gliene frega un cazzo Quindi si stanno cercando Di rispostarti Di nuovo da un'altra parte Ma il problema è che Si stanno creando Delle incongruenze Relative al punto di partenza E a dove vogliono arrivare Perché il protagonista È Newt Scamander E ora che fai Tu metti per l'ombrello Ma più che altro È questo che Bappodono scrive delle cose Che centravano con la trama Perché appunto Ti ripeto Tutto il passato di Silente La gente È per questo che secondo me La gente dice Che è il film migliore Perché è tutta roba Che ha senso Ed è tutta roba Che uno legge Nel settimo libro Dei ricordi di Rita Skinner Ma se tu ci pensi In questo film Fai contenti i fan E fai contenti I fan dei film E fai contenti Che non ci capisce il cazzo Ma allora perché Ma allora perché Mi devi aggiungere Tutta quasi Quelle dimensioni specchio Patto del sangue Tutte queste cose Che fanno incazzare Che non hanno senso E che poi si risolvono In due film Compreso Credence Che alla fine Credence Che cazzo ti ha lasciato Ma allora perché Nessuno lo racconta Nei libri C'avevamo pure Un cugino morto Minipote Minipote Perché è proprio stato inutile Ma sì ma è palesemente così Perché poi se ci pensi Che cazzo c'entra Il boccino d'oro È una bella immagine Ma fatevi benne Lo ancora Tu ricordi il boccino Quanto è bello Ma pure perché Silente c'ha sta affinità No perché ci nasconde La roba Silente Ma perché sono stronzatine Infatti Esatto Ciao E al Nat Ok ti saluto un botto De gente Poi li saluto Volevo dire un'ultima cosa Poi chi deve andare Vada Le cinque valigie Io vi ho messo St'immagine Perché voglio Perché secondo me Questa è una cosa Che ha senso E voglio vedere Se avete fatto Lo stesso ragionamento mio Se vi ricordate qualcosa Pure dei film E non dico altro Pure se non mi ha senso No vabbè a me Me l'hanno spiegata Che te che mette Lui non dovrebbe conoscere La stanza Delle necessità Ma in realtà No non dico la stanza Dico Allora il piano delle valigie Non vi ricorda qualcosa Certo Che ti ricorda? Quando gli Harry Potter Quando loro Prendono la pozzola di polisucco E fatti È uguale ai sette pot E tu dirai Ammazza che merda Ma invece Invece è geniale Perché? Beh perché È un po' No il percorso Che poi lui fa Perché no Perché guarda No perché Tu lo dico guarda Secondo me il discorso è questo Allora E se veramente hanno pensato così Sono stati bravi Al discorso dei sette pot È un'idea di Python No? Che uno non lo sa È un'idea di Python Che gli ha dice Ah mi ricordo chi Ma in realtà era un'idea di Silente Esattamente come fa qua Allora uno pensa Voi vedete Qua ha fatto questo Così poi Nel settimo libro Si è ricordato delle valigie Ha fatto la stessa cosa Questa è una cosa Tutto il percorso È una citazione Oh Questa è una cosa Figa Che uno scrive tutto il film E così E tu dici è così difficile Secondo me no Se uno che c'ha senso De scrive Queste sono cose Che hanno senso Anche se è una ripetizione Uno fa sto discorso Silente già l'ha fatto Da giovane Ah E tu leggendo il libro Pensi pure Con tentar film Vaffanculo Esatto Perché non fate così Perché me ne metta I cerbiati I patti di sangue Oh Questa è una cosa Che mi è piaciuta Perché non è che voglio Buttare solo un merda Questa mi ha fatto pensare A questa cosa E secondo me C'ha senso quello che ho detto A me piace molto Non ce l'avete pensato Perché se vedo anche Nei film No non ce l'avevo pensato A questo È lavoro mio Devo farmi Ok vai vai Però a me Invece Allora A me Io in generale Ho una visione Che non è molto Popolare Ovvero che Nei film Se non è sbagliato Mettere Tutte cose Che hanno un senso Perché Se tu cominci a vedere Un po' di film A un certo punto Se tutte le cose Che vedi Hanno un senso Tu per trovargli Il senso Risolvi il film Troppo presto Cioè ti devono Ingannare ogni tanto Quando non è nei film In che senso Ad esempio Tu l'hai visto Assassino sul Nilo? Tanto tempo fa Però sì Quello di Poirot Quello di Poirot Sì vabbè Hanno fatto il Il film recente Dici Esatto L'hanno rifatto Quel film Che è un investigativo No tu ti diverti A scoprire Chi è L'assassino Sì Il problema è che Anche lì Nel film Ti mettono Soltanto Indizi rilevanti Dopo 20 minuti Dopo 20 minuti Io ho capito Chi è Poi cercano Con le parole Con i gesti Di sviarti Ma non mi ingannano più Perché io Però la bravura È capirlo solo La fine Che tutto ha senso Ed è possibile Esatto Te faccio un esempio Stupido Ma mi è venuto in mente Il primo so No? Che alla fine scopri Che è quello per terra Però te fanno capire Ah ecco perché Perché tutto ha senso Ma tu non ci capisci il cazzo Mi riferisco Mi riferisco solo al primo E' un esempio Anche il pecoreccio Però Ho capito che dici Cioè serve qualcosa Ma magari quello è guidato Dall'emozione No? Magari se c'è qualcosa E' sbagliato Tu puoi dire Vabbè l'ha fatto Perché era arrabbiato Ma no perché non ha senso Capisci? Secondo me No no è vero Però Però in questo film In me in realtà È piaciuto il fatto Che Silente Faccia fare cose Senza senso apposta Per confondere Grindelwald Che è come se fosse Il Chi guarda Al cinema Che praticamente Conosce I sprazzi di futuro Ah no ma quello sì Ma perché ha senso Per il fatto che lo pensa Silente Capito? Eh però Però lo fanno anche con te Indirettamente E a molti Ha dato fastidio Il fatto che Sono visti 40 milioni di film In cui alla fine Silente dice Eh stiamo allo stesso punto di prima Forse anche peggio Però invece Secondo me È una bella idea All'interno del Del film Ok Visto che piace tanto a Maggi Rimettiamo il caprettino Guarda che carino Ma ragazzi Io abbandono Che c'ho da fare Però do di una cosa Una cosa A trono Vada Bello berserk Ma qua cazzo Dei saca del dio Tu non capisci Tu devi legge Maledetto che non sei altro E nel suo insieme Non capisci niente Begogna Bello ragazzi Intanto Bella Che cosa altro c'è da dire Ah ecco Un'altra cosa Secondo te Prego Secondo te Ciao Maggiore Silente Silente Conosce Dov'è il capretto Cioè Allora Perché le opzioni sono due O Silente Sa esattamente A ognuno Cosa vuole dare Opzione numero due Lui sa soltanto Che la prima La prima Valigia che prende Con Con Jacob Non ha il capretto Perché la prende lui E lui sapeva dove era Ma poi Non sa Chi effettivamente Prende il capretto E quindi neanche lui sa Secondo me era programmato Farlo prendere a bounty Anche se in realtà Lei la prende per ultimo Esatto Come fa No no È programmato Perché mi sa che lo dice A inizio film E gli dice qualcosa Tu sai quello che devi fare Quindi può essere Che già era tutto programmato E cioè Che era la meno sospetta Prego Però il fatto è che Lei lo prende per ultimo La valigietta Quindi se gli altri La prendono per sbaglio Quella del capretto E fa Dice no no Non più a questa Più all'altra Che ne pensi Gio? Allora Secondo me Era una cosa programmata Però effettivamente Non me lo spiego Cioè Tipo Ha pensato Ok Loro si metteranno in cerchio Cioè nel senso Prenderanno quella Che hanno di fronte Capito Potenzialmente Però non lo so Però Secondo me era programmato Perché poi Se vedi lei Come Arriva sicura Alla fine Di avercelo lei No però Aspetta L'uomo accetto Potrebbe aver dato La spedizione I valigie erano sei E lui Ne fa vedere solo cinque Esatto Quelle cinque Nessuna va al capretto Geniale Geniale Bravo Ma infatti Non era nessuna di quelle Pure a me l'hanno scritto Sì Poi era scontato Che non c'era In segnuta Quella che diventa La fuffettina Mi piace Mi piace Ma sì ma se vedi Ma perché te l'ho detto Anche da inizio film Quello l'hanno studiata bene C'era pure il trick Sì perché lei è andata Si è fatta a fare le copie Dei valigie E poi l'ha detto Mezza dozzina Quindi erano molto più Dei cinque Però poi La cosa della valigia è facile La cosa della valigia è facile Bauti rimane vicino la stessa valigia Dopo averle posizionate Quindi lei sa perfettamente Che quella è quella col capretto E così le aveva detto Di fare silenzio Lo sa comunque Gli altri sticazzi Di che trovano Gli altri sticazzi Esatto Ma poi c'era La gente diceva pure Che in teoria Bauti Dovesse Tina polisuccata Però qua mi sa Che stiamo a viaggiare Stiamo a viaggiare Sua tangentina No ma perché loro Secondo me La teoria della polisucca Era nata perché Non facevano mai vedere Tina Nei trailer Ma facevano vedere Bauti Quindi ho detto Non è possibile Allora facciamo che Bauti E Tina polisuccata Ma perché È impossibilitata Guardate Anche se abbiamo parlato Della loro relazione Guardate C'è questa cosa Questa è proprio Domani è un altro giorno Guardate Cary Grant Porco Giuda Sta fuori in quadro Poi a Amando Me fanno pure i coppietti Però per piccate su Tina Se vedeva dal secondo film Che poi che mi aveva idea Perché questo è proprio È diventato un anime È proprio la classica tipa Che poi No ci ho ripensato E grazie a cazzo E ci ha ripensato Cioè però Veramente È la tristezza pure Quello che ti dico Come lo mettono La mettono proprio Che dice due parole A terza parola E ho cambiato idea Sì Non so film Non fa nemmeno qualcosa Di così eclatante Per fargli cambi idea Qualcosa che gli scode Sì Per creare Sgozzare il capretto No secondo me Lei lo realizza Già prima E questo è il fatto Lei nel momento In cui arriva là Si rende conto Del vero piano Di Grindelwald Che non era quello Che gli aveva fatto Credito Da quel gran discorso No Sì Lei realizza E dice Ho fatto una cazzata Ma non puoi realizzarlo Prima quando ha squartato Mezzo di stretto Corfuoco blu Ma mi scusi Ma È un pazzo assassino Io lo dice pure Capito La povera scrittura Ma lei era Lì per lì Lei era immersa Nella cosa Io mi voglio sposar Con Jacob Non me ne frega un cazzo Sì è vero pure questo Capito È vero Lei presa da sto turbinio Di emozioni Ha preso questa decisione Poi ha realizzato Che in realtà Lui voleva solo Intortarla Però anche questo Lo realizza alla fine No Perché hai visto Quando alla fine Fa il discorso finale Ah questa vuole sposar babà Non lei fa Ma come Ma come eravamo d'accordo E poi lo crucia Tu c'hai ragione Però secondo me Lei lo realizza Già prima Anche perché Comunque lei legge Nella mente E poi Magari Magari Lui Può In un certo senso In un secondo film Può manipolarla Emotivamente Però poi La fin fine Se vivono tutto il giorno insieme Lei gliela legge La mente Cioè Fa l'ese Che sa cosa pensa E anche che sa cosa pensa Dei babani Magari All'inizio le dici Vabbè ma Non parla di Jacob Ma nel momento in cui Lui inizia a pensare Tutte cose sui babani Include anche Jacob Però guarda Ma infatti Mi sa che comincia a cambiare Pure dal discorso Mezzo iniziale Che si vede Ezra Tutti i capi lunghi Tutto così Davanti alla finestra Che parla con lei Già là Lei ti dice Guarda che io non gli dico Tu Esatto Brava Devo riferire le cose A Grindelwald Ma non è che gli dico Sempre tutto tutto Però anche quella scena Sembra Sembra una scena Che avrebbe Dovuto avere Tante altre scene prima Che non esistono Ma infatti Sembra una scena Cosa bro Ce l'hai capito Eh no 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 Tu c'hai ragione Però Che cazzo Secondo me hanno T'ho detto Molte delle problematiche Di sceneggiatura Nascono A parte che potrebbero Anche aver cambiato Pezzi di sceneggiatura Perché nel momento In cui non c'è più Tina Magari devi cambiare Delle cose Poi vai a sapere Com'era l'idea iniziale Come si è trasformata Ma forse La cosa che doveva fattina Le ha fatte X Non lo so Sì l'avrò fatta Bounty L'avrò fatta Bounty e X Sì ma Bounty Soprattutto Perché Bounty Infatti c'ha tutto sto Intanto guardate Che immagini bellissime Ci ha regalato Questo uomo No invece secondo me Che ha lavorato Secondo me Prego Secondo me Bounty doveva fare Le cose di Bounty Mattina era al posto Della strega La di X Eh sì Ah si chiama X Sì sì E un line X Quella è una È un Non sapevo Ancomi ricordavo Secondo me Lei è un po' No è una X Dilla Lalla No di Lalla Uè Lalla Vieni De Borgata Lalla De Torbella Cosetta Corbonero No però Torbella Corbonero Secondo me X la volevano mettere Per una questione Di Diciamo Minoranze Rappresentate Ma stiamo negli anni Trenta In America De Goffiano In Germania Che to' di ca' fa Magari tra i maghi Sì Guarda Io Potevano Vedi perché sono deficiente Potevano fa Che tra i maghi Erano delle persone Serie Emancipate E magari I neri Potevano anche Rosicato Te dirò De più Potevano Guarda se io Do darete i babbani Che ancora ci trattano Così Sti pezzenti Questa sarebbe Una trama figa Negli anni Trenta Però Boh Non lo so E invece Il granchietto Guardate Questo che ha fatto Stephen Hawking Invece Sculetta Con tutta l'amore Che è sacrosetto Sculettare Però Frate Quei granchietti Ma Io Vabbè Cioè Vabbè Però Però Secondo me È un grande attore Ma sì Ma poi Io non ho le competenze Per dire A me piace Per carità Però Che cazzo Questo che era invece Ma come ricordo Ah sì Questo è il capretto Tanto bellino Cucchellina di Massi Ma voi siete quelli A cui è piaciuto No a te no A Giorgia sì E Amelia Abbastanza Cioè Abbastanza Ho detto Cioè Io sarei triste Se non Non facessero il quarto Ecco Cioè Molta gente Vuole Stroncare la serie Io no Cioè Io lo voglio vedere Come va a finire Ma io pure Ti dico pure che Prego È proprio per Per vedere Il fatidico scontro Che io sono curiosa Ma quello Cioè Questo La vedo tutta Come una preparazione Per arrivare a quel punto Solo che Dopo questo film No mi chiedo pure Mo che si inventano Cioè Griswold Fa Scappa No cioè Boh È tutto molto Secondo me Sto trovando le gappe Forza la guerra Mondiale Secondo me Il prossimo film Potrebbe essere un film Molto più babbano Di quelli prima Se ne vogliono fa cinque Eh ma infatti C'era pure il dubbio Deve fare il quarto Forse In realtà Con il quarto Chiudono Sì Secondo me Fanno il quarto Che Magari il quarto Non è tutto un timeskip Magari il quarto È che ne so Prima mezz'ora Negli anni Trenta Seconda mezz'ora Inizio della guerra L'ultima parte E quarantacinque Ma perché in teoria Mo stavo nell'anno Trentuno Trentadue Cioè quindi No Prima ancora Perché c'è lei Che dice tipo Eh un anno Fa circa Tu hai conosciuto Ste persone Nel 29 No era il 27 Il primo film Sono sicuro Che era il 27 Quindi tu dici Ma come un anno fa Cioè Il 28 29 Massimo Capirai Massimo Sì così Il 28 Infatti Perché Deve iniziare ancora La guerra Quindi Magari Magari faranno Ressente E skip Fanno vedere Gli anni Della guerra Loro che cercano De sopravvive No Ma che ne so Newt che farà Durante il periodo De guerra Perché non possono Secondo me Ci divesse un salto Invece Devono fare tipo Questo è finito Così E poi ti fanno Vedere Tipo Dieci anni Dopo Tipo Nel 40 15 anni Dopo Nel 40 Cosa succede E poi Ci fanno Una cosa Capito Quei due Drei anni Un po' autoriale Con che ne so Una musica Di sottofondo E le scene Che ti accompagnano Negli anni Ti fanno vedere Cosa succede Nel mondo reale Cosa succede Tra di loro Magari anche Velocemente Il mondo magico Forse anche Tramite i giornali No Con le notizie Sì brava Tramite i giornali E poi si arriva Assurdo E quindi Ti fanno vedere Che ne so Newt è già con Fio Gottina Esatto Secondo me sì Sì E magari sì Faranno un test Kippa De 5-6 anni E faranno vedere Tutti i figli Che ne so Jacob Con il ragazzino Eppure magari Newt e Tina Perché tanto Vanno a sbatte insieme Perché Sì Sì Nel retro Grazie a mia moglie Tina Del libro vero Quindi Porpettina Newt Spoiler Spoiler È la trama Quindi vabbè Però Ci stanno un sacco De bughe E domande Le stringe Che fine fanno Sì Ma anche Nangini Nangini perché è sparita Nangini perché serviva più Perché l'hai messa prima Perché appunto Sono sempre queste cose Anche se la gente Giustamente dice Come Maggi Non puoi Mettere insieme Chi Legge i libri E i film Queste sono tutte cose Cercate Cercate di far piacere A chi ha letto i libri Da una tristezza Proprio nel senso Guarda vedi T'ho messo Nangini Te la ricordi Ma io me la ricordo Però non era così Mò è un essere umano Ma poi che si perde là È solo per sbaccate Tutta la trama Che avevi imparato ad amare Non lo so Cioè Poi tu te leggi i libri E vedi che Nangini è umana E fai ok Quindi adesso io devo capire Che è umana Poi vedi Silente E fai Aberforth Questo che Parlano solo delle capre Ma perché parlano sempre Dei capre Non parlano mai Del figlio morto Il figlio morto Il figlio morto Lo ignoriamo Vabbè magari sono Quelle cose che stai Dici Aberforth Non ne parla mai Oppure può essere anche Che non venga mai Riconosciuta questa storia Cioè la sanno loro Ma all'opinione pubblica Non saprà mai Che Credence era Su figlio Ma sicuro è perché La vogliono insabbiare Però è strano Silente Vabbè ma però ovviamente Però io te lo sto a dire Questa è anche una Recriminazione semplicistica È ovvio perché è un retcon Sì Te sto a dire solamente Che potono farlo In mille altre maniere Senza incasinare la trama Oppure non è canon Non puoi venirmi a dire Che è canon Oppure stanno usando I personaggi tipo Aberforth Che sono visti poco Perché è come se Nel quinto Vedi Voldemort Solo che è buono e bravo Perché gli cambiano La personalità Come hanno fatto Aberforth Però quello Si è visto nei film Ma anche Aberforth Si è visto nei film Quindi Sì sì Vabbè Però non ne sapevano Nessuno Però non era così matto Come nei libri Esatto Secondo me C'hanno dei personaggi Che sono intoccabili E quelli non li possono modificare Poi invece ce ne sono altri Che sono apparsi poche Che alla fine dicono Pure se noi li modifichiamo Un po' Noi ne ne vediamo niente La gente alla fine Se lo fa da bene Quindi appunto Prendono questi personaggi Che appaiono uno o due volte Che hanno tanti anni Di vita vissuta Di cui tu in realtà Non conosci niente E cercano di incastrare Però te la fai un'idea Di come hanno vissuto Capito? Certo E quello che dico È solamente che Si può fare Si può incastrare Come quello delle valigie L'esempio delle valigie In modo carino Creando qualcosa di bello Senza spalda a tutto Perché poi veramente Diventa Dragon Ball GT Ecco che cos'è Animali fantastici Il Dragon Ball GT De Harry Potter Signori grazie Per essere stati con me Tutto questo tempo Grazie a te Se volete dire qualcosa Prendetevi tutto il tempo Che volete Soprattutto in linea De massima Mettiamo come finale Green The World Che alla fine fa Arriderci e grazie Io vi volevo bene Grazie Lui crede alle sue cagate Quindi lui se ne va Fa ciao Vai Prima Giorgia Prima signore E grazie Giorgia Scusa Hai imparato A vedere che io interrompo Ma non lo faccio apposta Ma anche che guardo Mi scuso tantissimo E faccio parlare Prego Giorgia Ma quando mai Pur io tanto No dico No vabbè Quello che voglio dire È che appunto Il film nonostante Tutti questi buchi Tutti questi problemi Alla fine mi ha lasciato Una bella sensazione A livello di Forse sì Emozioni No cose Curiosità E curiosità Nel vedere cosa succede Poi Quindi Ecco Spero veramente Che facciano altri film Quello sì Perché se dovesse finire qua Sarebbe davvero Ah sul fatto del mondo magico Che te fottono sempre Pure io E appena sentiamo Musiche che te fottono così Però cosa ti aspetti Nel film dopo Quindi Grindelwald Cosa farà silente Per lo calcola Cioè lo dico Perché è l'unico forte Abbastanza No no ma lo dicono pure Nei libri È per quello Perché è l'unico E tutti dicono O dicono questo film Vai 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 silente Vai lui Perché gli altri Perché gli altri Gli emena Perché qua è sempre Sulla È molto Alla fine i maghi Sono molto Come legge dalla giungla Chi è il più forte Sbarella E l'altro Non ha bozzato Ovvio ovvio Prego Però Boh ecco Vorrei capire questo E poi Spero che non Non facciano Come hanno fatto Su questo film Quindi di fare cose Senza Spiegare Quello Però vabbè Ce lo dirà solo il tempo Tu la guerra Non c'è Non pensi Che non ci sia Oppure Che non si Secondo me Ci sarà Sarà presente Però C'è quello Che ti volevo Di prima È che non ci sarà Un accordo Tra Hitler E Grindelwald Capito Io lo spero Nel senso Perché secondo me Sarebbe figo Ma sai cosa Perché adesso Dopo quello Che è appena successo È altamente improbabile Che Grindelwald Diventi ministro Quindi Cioè sarebbe Solo un alleato Sotto un altro Punto di vista Però No ma infatti Era quello che pensavo L'avevo detto Il raccordo Che tu dicevi Alla fine del secondo film Cosa pensavi Io pensavo Questo Capito Infatti è andato Tutto a schifire Ormai Se lui fosse ministro Eccetera Se sì Dai eh Melia Allora Io Vabbè Innanzitutto Ho apprezzato Dell'ultima scena Il fatto che lui Prima di teleportarsi via Si lancia Si lancia di sotto Perché secondo me L'unico modo in cui ha senso L'ultima scena È che Nella scalinata E nel Nel tempio In cima Non ci si possa teleportare Perché loro se la fanno A piedi a correre Tutta la scalinata Vabbè Non è la scena D'azione Eh no È vero Però potevano poi Immorare la cosa E far teleportare via Grindelwald In mezzo alla cosa Invece lui si butta di sotto Come se uscisse E poi si smaterializza E poi si smaterializza Mentre sta per aria Quindi io quello L'ho apprezzata Come idea Per tenere Un punto Perché fa freddo Sì dai Sono Sono più da tua parte Io Spero che Grindelwald Visto che adesso Non ha più Il supporto Della maggior parte Dei maghi Cercherà Il supporto E tramite i babbani Cioè Secondo me lui Ingannerà i babbani Per far sì che si arrivi Alla guerra mondiale Effettivamente Per poter andare a dire Ai maghi Avete visto? Ve l'avevo detto io Mettete da retta Giusto Adesso datemi Datemi il potere E quindi L'ultimo scontro Spero sarà Perché Silente Si trova in una situazione In cui Grindelwald È riuscito a riprendere il potere Grazie al fatto Che c'è la guerra in atto Dei babbani Però vedete Ci sta eh Ci sta Pure questa possibilità In realtà Esatto Sarebbe pure interessante Se fatta bene Però Perché poi c'è il pericolo Che là Non vai solo a intaccare La storia di Harry Potter Ma la storia Proprio C'hai capito Vabbè ma quello Già sarei più Che ne so È un È una libera interpretazione De qualche evento Soprattutto magari Edulcorato Perché non possono Andare troppo pesante Ovviamente Cioè non possono Vabbè Dipende da come lo fanno Cioè sarebbe figo Però è anche Rischioso poi Sì esatto Eh ma già è rischioso De suo Mettere la guerra A mezzo Che ne so A segregazioni I babbani Che fai Accostamenti Bellosi No no C'è ragione C'è ragione Insomma Finalissimo Che voto gli dai Giorgia Sto firma Sette Ok Tu Melia Sette 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 e mezzo Sì Dai eh Io Cinque Mi dispiace Perché Me cazzo Queste cose De tra Vabbè No ci sta Signori Grazie mille Noi ci vediamo Melia A maratona Del Goblins Sì domani Domani spero di Ah vero Domani è una big maratona Dai io passo Così Tipo in finestrella Dai Grazie mille a tutti Grazie Giorgia Spammino di Giorgia Grazie a voi Giorgia Falci Che gioca A Teamfight A TX Io ci ho mai giocato Io l'ho giocato a LOL Dal 2012 Quando vai Quando vai In coaching Quando ho scaricato LOL C'era Draven in copertina Per fatte capire La delicatezza Era appena uscito No Draven No il gioco Il gioco è ancora spesso Ma io Azzì te parlo Che giocavo su Warcraft 3 A Dota Quella vera Le mappe De Ice Frog E' il sacro E' un amico mio Non so se ti è beccato Su Warcraft 3 No World of Warcraft Io l'ho chiuso su Warcraft 3 C'è stavano le prime Le Battlenet Azzia Battlenet Quella era Real Deal Comunque grazie mille Io sono una Zoomer Non le so sti cosa Vabbè Ma tu Teamfighting Vabbè Sono tipo quei giochi Che ce ne stanno Non ho sempre intravisti Dai Qua stiamo Con la creme della creme Dei giocatori Da te c'è Meliador pure Che fa di guerra Questi c'hanno gli sponsor Questa roba seria C'hanno le magliette Tutte cose Tutte cose Andate a seguirle Anche Spamino di Meliador Io saluto la chat E stacco pure la maglia Bye bye Alla prossima Ciao 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 Buona serata Vai Anzi chiudete qua Perché ho paura che Ok Facciamo questo Aspetta Ho paura che Ma se io chiudo qua Non ce va intero Vabbè Ci parliamo qua Aspetta Signori Sono tutto nostro Uè Eccoci Spero vi siano piaciute Queste due rette buone Di chiacchiere Stanno a bella live Sono contento Poi ovviamente Mi sentirete Parlarne meglio Di tutto questo Nel riassunto Che uscirà a maggio Sicuro la prima parte Esce a maggio Non so quando Non mi dite cose Che ancora devo finirci Da anelli Sì Perché sto a pensare Pure a sinetà anelli Fai le più spesso Ste live Eh ma io devo organizzare Io tutto il mio tempo Lo uso a edità Quindi Ste live Già che ho preparato Le immaginine Per me è stato un effort Non indifferente Ma lo faccio per voi Lo faccio per voi Però ti dite Di più Grazie a tutti quelli Che hanno partecipato In linea di massima Sto film Io te lo dico La mia opinione è che Tu non mi puoi distruggere La trama in sta maniera E io mi devo star zitto Tu non mi puoi Di che Abberfort C'hai figli Quando io Tutto quello che so È che andavo Impresso alle capre E alla sorella Avrei Se tu mi dici Che hanno trombato Quella sorella È fortissimo Ma io ce credo Se tu mi dici Che quello Vai in spiaggia A trombare Poi questa Mi hai vista Ne sentita Così conveniente Si tromba una E la madre Non si vede più Così conveniente Veramente non ha senso Mi incazzo Il primo tempo Perché mi era piaciuto Perché si dice Che Silente era gay Oh Lo sapevamo Oh Lo amavi E per questo Non gli andavi contro Bravo Gli dice quella frase Tu sei un Silente Ma non sei mio fratello E tu E te mette qualcosina La pulce E fai Oh Dai Nel primo tempo Ci stanno le cose più carine Ti dicono Che hanno un bo scuro E tu fai E dai cazzo Nel secondo tempo Ti Sbaccano Sto parlando veloce Perché Ho parlato pure prima Non sembra Ma mi sono trattenuto tantissimo Io non ce la posso fare Ecco perché non faccio parlare Le live così Perché penso veloce Parlo veloce Devo dire tutto quello che sa Bello E vi saluto tutti Intanto vi leggo Chi blocca la vada Chi è che riesce a bloccare la vada Che da Ma come No Comunque Grazie a Volkswagen Per i due mesi Grazie a Temistocle Grazie a James A Kerikba A Collina Di Storele A Valentina Fox Per i bit Elnat Ciao Elnat Elnatone A Canagy E' molto poco E' veramente Perché ogni tanto Cercavo di leggere Ma Cercavo dei gesti Non sembra Ma ho cercato di far parlare Un po' per uno tutti Quindi Anche se interrompevo Era pure perché Volevo far parlare altri Quindi Già fa quello E' difficile Già io che non parlo Sopra l'arte E' difficilissimo A leggere pure a voi E' un burdello Ok Intanto la ricarico Sta live Non vi preoccupate Per non parlare Il patto di sangue Il patto di sangue E' veramente Poi la cosa che fa Incazzare E' che questi film Come ha detto il buono Ma che sono immobile Ah E' andato il meeting Vabbè Ci salutiamo come i vecchi tempi In ending E mettiamo pure la musica Chilling Quello che fa incazzare E' che tutti i personaggi Che abbiamo visto E tutte le sottotrame Non se le so portate avanti Per Un senso Sono morte là Se tu mettevi Credence E non mettevi Credence Cambiava per lo svolgimento Degli eventi Ma non cambiava Per la trama effettiva Se tu mettevi Il patto di sangue O no Sarebbe cambiato qualcosa Se me lo mandavi avanti Fino al 45 Perché se no Così che cazzo Di senso ha Poi il fatto che Lui blocca Ah vabbè Ma la vada Nella dimensione specchio Non conta ragazzi Allora vabbè No vabbè Là è scialla Sta dimensione specchio Poi il buco di trama Più grande dell'universo Cioè Ma come cazzo Si fa a scusare La dimensione specchio Ma perché Non c'è Allora Ma tu hai voluto Rischiare la vita Con Harry Nel quinto libro No vabbè Sempre ha parlato Di queste cose Pecorecce Però Anziché E mi taglia La statua davanti Ma scusa Ma va Nella dimensione specchio A fa botte Con Bordeaux Una dist track Micidiale Sì Sono Credence Sono Credence Non ho un cazzo di senso Sono morto tutto al vento E Mia madre era una capra Difida da chi ti dice Che mio padre andava Avada kedavra Avada kedavra Mia madre era una capra Extra dissing La dimensione specchio Sì ma Dottor strange Ma quello che ho pensato io Ma poi l'ho investito Da dottor woo Ma come si fa Ma poi come fanno A fa botte Ma poi capito Il punto è che Non ti spiegano niente Però ha senso Come vi dico io Regà Ve lo spiego io E che Quando lui Prende la decisione Di andare contro Questo patto di sangue Allora Si sfascia da solo Il patto Perché lui veramente Rinuncia all'amore Per Grindelwald Ok Ed è la cosa più poetica Che potevano fare Questo è Harry Potter Lo fai Andate a cercare Mannaggia la miseria Comunque io Alla fine Mi ha deluso grandemente Che vedevo di Grazie mille Per queste due ore e mezza Di chiacchierine Tutte Le mie opinioni Molto più pensate Rivedendo il film Perché non l'ho rivisto Vi attendono Nella seconda parte Di maggio Adesso Continuo a editare E vi mando da Da che vi mando Vi mando da Giorgia Visto che sta a gioca Vi mando da Giorgina Un salutino a Giorgina Che è tanto carina E spero di averla fatta parlare Abbastanza Perché non mi odi Salutatemela Ciao amici Ci vediamo Che cazzo di giorno è oggi Oddio Che cazzo di giorno è oggi Venerdì Non lo so Domenica Domenica il primo maggio Forse la facciamo in live Irle Non lo so Va bene La seconda parte Del gradatore Io spero Entro massimo Venerdì prossimo Perché vorrei Fanno uscire Ogni due settimane D'un ora l'uno Regà Lo so Ogni due settimane Ma un'ora Dei video l'uno Va bene Ciao 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 Grazie L'amo